Dice i miei genitori, padre e madre erano irlandesi, io sono nato in Inghilterra, dice ma si può fare una cosa più stupida di così? Scotch whisky. Allora. Allora. Ready? Fai tre minuti. Allora, introduco la giornata intanto, Mike. Ok. Giorgio, vuoi che ti traduco? Io non c'è bisogno per Dottor Rada. Allora fai frasi corte, per favore. Sì. Cioè spezzali, insomma, fermati. Se vuoi anticiparlo anche a Dottor Rada e a Ian questa cosa di fare brevi. Adesso glielo dico, sì. Io lo subito. Ok. So, Dr. Rada, Ian, good morning. Giorgio's going to deliver a short presentation and he would like me to translate it for you. This means we're going to make it longer because he's going to have to speak in short statements. And this gives me the opportunity to remind you both, especially Dr. Rada, who will be delivering the scientific presentation, to please break up your statements and sentences. Dr. Rada, make them as short as possible, especially when they become extremely technical. And thank you very much because I'd rather not take notes, I'd rather memorize what I need to translate so that I can be more effective. And what's more, it keeps the participants that are not listening directly to the English, it keeps them on their toes and listening to the speech continuously rather than having long gaps. Thank you very much. Thank you. Thank you. Allora, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno a tutti, especially those of you who have been attending our workshops and following us for some time now. È una giornata importantissima perché abbiamo voluto donare questa giornata di formazione grazie all'impegno del presidente Ian Lyons e al supporto del dottor Rada per mettere a disposizione come possiamo migliorare la nostra interpretazione dei report che ci vengono forniti dai test fatti con S-Drive. Okay, it's a special day, as I was saying, very special day, because it is a gift day. It's a day which is gifted to you all. Thank you to the initiative of Mr. Ian Lyons and Dr. Rada who are making their time available here to provide this workshop to help you improve on your interpretation of the S-Drive report. Questa giornata, tra l'altro, oltre a molti che hanno già S-Drive, parteciperanno anche molte persone che vogliono capire come S-Drive funziona e quali vantaggi può dare veramente S-Drive nella pratica clinica. The attendees today are not just people that are already working with the S-Drive and know something about the reports they receive, but also there are many attendees who are approaching the S-Drive for the first time and are willing to understand a little bit more about it. Abbiamo quindi l'onore di avere Dottor Rada con noi e il presidente Dottor Ian Lyons e direi che possiamo subito aprire la giornata. Vi ricordo che la mattinata sarà tutta orientata per l'interpretazione della lezione del dottor Rada che ci condividerà la sua esperienza clinica. So, with no further ado, let's begin the day and we have the honor of having our chairman, Mr. Ian Lyons, as I mentioned earlier, and Dr. Rada. Dr. Rada, who will be speaking this morning, delivering his lecture on the clinical practice that he conducts. E' il suo approccio verso, insomma, lui è un medico con molti anni di esperienza, ha moltissimi casi trattati e quindi sarà fondamentale avere questa sua esperienza e questa sua condivisione. As I was saying, Dr. Rada is a physician, a medical doctor. He has his own practice. He's been practicing for several years and he will be presenting his cases. Nel pomeriggio avremo la lezione magistrale del professor Pier Giorgio Spaggiari. In the afternoon we shall have the lecture by professor Spaggiari, doctor and professor Spaggiari. E vi assicuro che ci darà delle informazioni importantissime anche in virtù degli studi che lui ha fatto a un punto di vista proprio di fisica teorica sul funzionamento di S-Drive. E poi avremo la lezione magistrale dell'esperienza clinica dell'approccio del grandissimo dottor Bartolomeo Legrini con la sua visione sistemica. e secondo le costituzioni in chiave moderna dei report S-Drive. Puoi ripetere il nome del... Bartolomeo Legrini. And then in the afternoon as well we shall have the lecture by Dr. Bartolomeo Legrini who will be providing another look on the S-Drive thanks to his studies which are multidisciplinary. Quindi grazie a tutti ed è un onore per me presentare il presidente Ian Lyons che introdurrà il dottor Rada. e quindi grazie Ian per il tuo supporto e per essere qui con noi oggi e poterci insomma aiutare nel portare avanti una visione così preziosa per aiutare gli altri a vivere meglio con uno strumento così straordinario. Ok, so with no further ado let me introduce Mr. Ian Lyons, our chairman, and he will be introducing Dr. Rada. And thank you so much Ian for joining this meeting and for being here to provide this very precious vision of yours in creating and implementing the device that we shall be talking about the S-Drive. Thank you very much. Good morning everyone. Buongiorno. Dr. Rada, I say is a genius. Buongiorno signore e signori, io presento il dottor Rada e con una semplicissima affermazione, lo ritengo un genio. Semplicemente perché ho lavorato sulla tecnologia dell'S-Drive per 15 anni, prima che arriva il dottor Rada 6 anni fa. E semplicemente dico questo perché io lavoravo, avevo già cominciato a lavorare sulla tecnologia dell'S-Drive da 15-16 anni, prima che arriva il dottor Rada 6 anni fa. Egli è un medico molto conosciuto in Asia, opera in Asia ed è anche però un biochimico. Egli fa la formazione della formazione ai medici dei medici. E gli ho chiesto se poteva per favore sviluppare per me una pagina del report dell'S-Drive sul intestino. Ebbene lui grazie alla sua equipe di collaboratori di medici ha sviluppato questa pagina sull'intestino che se ci seguite già da tempo avrete notato è stata introdotta e migliorata negli ultimi 4 anni. Poi abbiamo chiesto al dottor Rada e al suo team di migliorare e sviluppare la pagina dedicata al sistema immunologico nel report. Che appunto è stata aggiunta agli inizio del 2020. E da quest'anno affermo, ripeto e ribadisco, da quest'anno avremo una nuova pagina dedicata esclusivamente al diabote. Ebbene, cito la pagina del diabete perché il dottor Rada lavora intensamente. su pazienti affetti da diabete e ha già in 290 casi portato a una regressione e a un'inversione della patologia del diabete. sta facendo degli studi appunto clinici in India e l'obiettivo è quello di portare alla regressione e riversione del diabete in 100.000 casi. E quindi senza ulteriori indugi io ho il piacere di presentarmi il mio amico e il dottore medico, dottor Rada. che conduce una vita molto molto semplice. La sua devozione è dedicata al miglioramento delle condizioni di salute dei suoi pazienti. buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, sono io il dottor Rada e vivo qui in Malesia in questo momento. e io negli ultimi anni appunto mi occupo di attività con l'utilizzo dell'S-DRI. scusate, scusate, e faccio formazione ai medici. My specialty is reversing diabetes. La mia specializzazione, potrei dire, è quella dell'inversione del diabete. Reversing hypertension. Lo stesso per le patologie ipertensive. Reverse heart blocks. E anche i blocchi cardiaci, quindi l'inversione delle patologie legate ai blocchi cardiaci. Without medications. E tutto questo senza medicamenti. Ok, what is the first test that you want me to translate? I've got a report on... Allora, io ho ricevuto dei report e vi chiedo qual è il primo report su cui vogliamo lavorare? Interpretare. No, no, ma ne mettiamo uno e condividiamo. Senza problemi. Dr. Rada, you can choose, but let's start with the first one. Yes, you tell me the first one. Which is the name? Okay. Mi puoi dire, Giorgio, il nome? Il nome della persona del report? Oppure qual è il report su cui voglio lavorare? No, questo ho bisogno che mi aiuti Ian. Okay, no problemi al computer. Ian, Ian, can you help us with this? Because Giorgio doesn't have his computer. Okay, Dr. Rada. Yeah. Just tell me the name, I'll go over through. Okay, I will. I'll have to open my emails. Just bear with me a second. You said, I'm sending you your esterife report of one patient. I would like to show this doctor suffering from fall and coccyx persistent itch and laceration. Endometriosis. Oh, yes, it's the young girl. That was the first one. It was the young girl. Well done. Well done, my friend. You want me to translate that? First, yes, please, brother. Okay, so... Okay, so... Okay, you need to focus on my... Screen. Vi chiedo di portare l'attenzione sullo schermo che qui sto presentando. Can you see? Lo vedete? Lo vedete? I can't see my screen. Io non riesco a vedere lo schermo. Mike. Giorgio, it's pinpoint, I think. Pinpoint, yeah. Dovreste ehm l'interprete che parla dovreste selezionare sul vostro eh zoom eh appunto andare in alto a a a destra e selezionare speaker. Se voi scegliete la la visione dello speaker si dovrebbe ingrandire l'immagine piuttosto che la galleria quella del eh del relatore che parla in quel momento. Gian eh bisogna che condividere la la il il report eh sì Giorgio lui non sta condividendo il suo schermo. eh lui ha avvicinato il computer al suo schermo. Cioè lui non sta condividendo lo schermo del computer. Lui vuole far vedere eh la lavagna che lui sta utilizzando. quindi dovrebbe tutti i partecipanti se vogliono vedere la lavagna su cui scriverà il dottor Rada devono selezionare la vista relatore e questo lo fanno da eh da 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 zoom. Lo fanno ho detto e ribadisco eh sul pulsante in alto a destra. Io ce l'ho in inglese. C'è scritto view in inglese. In italiano ci sarà scritto eh non so vista ecco. Andate su vista e selezionate speaker o relatore. Io ce l'ho in inglese. C'è scritto speaker e sotto c'è scritto gallery che sarebbe la visione di tutti quanti. se selezionate speaker tutte le volte che qualcuno prende la parola verrà ehm come dire la schermata verrà ingrandita. Lo sanno lo sanno. Ok. Ok. Rada. Dottor Rada. Go. Uh. He's still not the main speaker. I'm not on the screen. Because you need to see the whiteboard. Yes you are. You are now. You are on the screen. I can't see. The screen. Hold on. Hold on. Can I see myself. He's just in a gallery. Can you make it a. He's the main speaker. Ok. I performed what I suggested in Italian. In other words, you choose speaker instead of gallery from the top hand right hand corner. of the zoom of the zoom display. Ok. So you go to the top right hand corner. Ok. I can see. Ok. And that's it. That's exactly what you should do Dr. Rada yourself. Ok. So here we are. I can see the screen and I can see you Dr. Rada. Ok. As far as I'm concerned, you can go ahead. First report. Let me write it down so I can easy for you. Ok. As we go. Allora, adesso quindi uso la lavagna per illustrarvi questo primo report di cui stiamo parlando. Quindi faccio l'interpretazione del primo report e adesso trascrivo alla lavagna gli elementi che seleziono dal report. Puoi fare anche il nome della persona, non ci sono problemi. Dr. Rada, you can even mention the name of the patient that you are. Ok. The patient's name is Sekaro Caterina. E quindi il nome del paziente è Caterina Sekaro. No. 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 No no. Though. e quindi il report del paziente presenta frequenze elettromagnetiche vitamin biotin vitamin B9 B12 e B1 e per quanto riguarda la categoria vitamine presenta biotina vitamina B9 vitamina B12 e vitamina B1 e per quanto riguarda le carenze di minerali questa paziente presenta carenze di minerali per quanto riguarda lo iodio il litio il magnesio e il potassio has got omega 6 deficiency and omega 9 deficiency le carenze per quanto riguarda gli acidi grassi sono omega 6 e omega 9 antioxidanti he has vitamin C and CoQ10 deficiency per quanto riguarda gli antiossidanti le carenze di questa paziente sono per la vitamina vitamina C e per il coefficiente Q10 ok ok under proteins you have carnitine deficiency serine glycine and trionine again these two carnitine and serine ok per quanto riguarda quindi what are these deficiencies can you repeat them again not the names not the names the category amino acids per quanto riguarda quindi gli amino acidi le carenze sono carnitina and then serine serina glycine glicina trionine e trionina ok then the child has got radiation inoltre presenta radiazioni and under food avoidance the key point is pelt e i cibi gli alimenti da evitare l'elemento chiave dal punto di vista alimentare da evitare è il farro so how I decode is very simple ora la mia metodologia nel decodificare questi queste risultanze è molto semplice ok slowly for you let me write it out first ve lo scrivo così da agevolarne la comprensione ok ok quindi il paziente ha una carenza da vitamina B9 B12 e una carenza anche da vitamina B12 ok so you tell when they eat egg o soya quindi quando consumano uova o soya you get a protein called metionine si sviluppa un elemento chiamato metionina metionine converts to homocysteine che poi a sua volta si converte in omocistina homocysteine can convert to metionine e a sua volta il processo è bionivoco l'omocistina si riconverte in metionina so it requires betaine it needs betaine betaine quindi questa formula richiede il bitaine it requires B12 richiede anche la vitamina B12 B9 B9 so if you see here B9 B9 this is the deficiency queste sono le carenze quindi B12 e B9 questo vuol dire quando ci sono carenze di B9 e B12 vuol dire che l'omocistina non è possibile che si riconverta in metionina e la metionina a sua volta non si può convertire in omocistina tutto questo è un processo metabolico che avviene a livello del fegato ok what is homocistina what it means che cos'è l'omocistina spieghiamole un po' il significato questo per esempio è il vaso sanguigno c'è un accumulo dell'omocistina nel vaso nei vasi sanguigni questo è il fenomeno che stiamo illustrando qui ok so homocistina is inflammatory inflammation quindi l'omocistina va ricordato che è un marker dell'infiammazione quindi questa bambina è affetta da uno stato infiammatorio e questo si manifesta al livello cellulare questo è biochemistry e qui stiamo parlando dell'aspetto biochimico del processo ok italiana biochemistry e malessian biochemistry è uguale alla biochimica malesiana ok so chronic inflammation will lead to diseases quindi l'infiammazione cronica conduce alla malattia so what is blocking this what is blocking this quindi cos'è che blocca questo is blocked by radiation questo blocco è provocato dalla radiazione ok so next this this child will develop blood pressure 10-20 years later questa bambina continuando con questo stato di cose svilupperà ipertensioni è probabile che sviluppi ipertensione tra 20 anni so as doctors we give hypertension medicine e quindi come medici somministreremo farmaci anti-ipertensivi but the child only needs B12 and B9 mentre invece la bambina ha bisogno soltanto dell' integrazione della vitamina B12 e B9 but even if we give B12 and B9 it is not absorbed ma se somministrassimo anche se somministrassimo la vitamina B12 e B9 la bambina non sarebbe in grado di assorbirle queste vitamine perché il blocco è procurato dalla radiazione presente so the key for this child to be healthy pertanto la chiave affinché questa bambina raggiunga uno stato di salute is to remove radiation the root cause the root cause is radiation quello di andare alla fonte alla radice del problema cioè eliminare la radiazione quindi la root cause quindi la causa radice l'origine e la radiazione ok has anybody got questions before I rub this off I beg your pardon can you say that again has anybody got any questions before I rub it off ok quindi ci sono domande prima che io cancelli quanto ho scritto qui sullo schermo ci sono domande yes I have a question yes please how can you tell that the radiation is the root cause what's the index that tells you that is in the report in the report it shows radiation I'll come back to the explanation after this any other questions ci sono altre domande so just to understand you mean that in any case you find EMF as an index reported in the report you mean that that's the root cause or just in this case it is the root cause la domanda che chiede ulteriori chiarimenti dice ma questo vale per qualsiasi report in cui noi leggiamo che ci sono emissioni elettromagnetiche appunto evidenziate nel report oppure questo vale soltanto per questo caso specifico perché questo fattore delle radiazioni magari è correlato ad altri fattori solo in questo caso è la risposta ok quello che io sto cercando nel report quando io leggo e interpreto il report io sono alla ricerca di una o due root causes quindi di cause che sono la radice del fenomeno e a quel punto io posso testare e vedere se io rimuovo queste cause che sono alla radice del fenomeno posso vedere se il fenomeno migliora se il fenomeno scompare we can do a B12 test blood test certo potremmo fare un prelievo del sangue per misurare i livelli di B12 we can do ultrasound liver potremmo anche fare una ecografia del fegato per esempio ultrasound liver will show fatty liver e per esempio se facessimo ecografia del fegato verrebbe evidenziato una steatosi cioè un fegato grasso any other questions ci sono altre domande ci sono altre domande ok Giorgio you tell like this these are cells Giorgio Giorgio yeah ok cells convert to cells put together to form tissues noi sappiamo organ organ to human allora noi conosciamo benissimo appunto questa progressione per cui le cellule si convertono in tessuti o rappresentano tessuti i tessuti sono organi e poi gli organi chiaramente rappresentano l'essere umano most of the time the doctors are looking here nella maggior parte delle indagini che fa un medico è quello di focalizzarsi sull'organo oppure sui tessuti invece quando noi facciamo un'indagine epigenetica noi ci focalizziamo sulle cellule se c'è nessun altra domanda continuo showing this ebbene quindi se non ci sono altre domande io cancellerei quello che ho scritto alla lavagna e continuerei con questo approccio ok Kendra Mike si allora io vorrei prima che lui vada avanti voglio far vedere a tutti il report ok dr brada this is georgio speaking now and he says before you move ahead he would like to show the report to everyone so that we're all on the same page please please do ok giorgio vai fai ok intanto che se mi date un solo un minuto giorgio is organizing his screen to display the report c'è un cellulare che squilla con il microfono acceso il cellulare che squilla per per piacere allora lo scarico piacere pazienza ma con questo computer che ho di di fortuna per fortuna che sono riuscito a avere avere questo computer allora vi faccio vedere un esempio di report in maniera che tutti voi potete giorgio is going to illustrate with this report how the report works è un esempio di report perché il nome non riesco a trovarlo in questo caso è un esempio è un sample report perché non 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 il che ti illustrano dottor rada quando il dottor rada parla di questi problemi parla proprio delle varie problematiche legate alle segnalazioni del report in questo caso come vedete in questo caso su questo report noi abbiamo la pagina 3 che è riassuntiva di tutto e poi abbiamo gli indicatori vedete in questo caso campi elettromagnetici sono l'interferenza i cibi sono un problema per questa persona e ci sono le varie carenze vedete dei vari minerali quando segnala questo ce le segnala con delle priorità non serve che traduci lo so grazie per quello che vado avanti e poi ogni specifica pagina ha un 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 focus su quelli che sono i problemi da risolvere in questo caso come vedete c'è il metabolismo degli zuccheri il metabolismo degli acidi grassi la sintesi delle proteine e il microbiota intestinale quindi e poi a seguire ogni pagina questa è la pagina del sistema immunitario con un valore il valore dovrebbe essere sempre intorno tra 1 e 19 e tutte le volte che supera comunque dobbiamo andare a vedere perché quali sono le carenze quali sono i danni soprattutto a livello ambientale e poi piano piano c'è il report c'è la pagina sul sistema gastrointestinale poi abbiamo il report sul sistema cardiocircolatorio quindi tutte le carenze legate al sistema cardiocircolatorio e poi vedete quello di cui faceva tanto riferimento il dottor Rada sull'interferenza dei campi elettromagnetici è questo attenzione perché tutto ciò che è danno ambientale crea un problema come sapete inverte la polarità a livello cellulare abbiamo visto uno dei nostri massimi esperti che ci sta seguendo è il dottor Gelli Alessandro Gelli ha fatto ha fatto le lezioni straordinarie sul danno da campi elettromagnetici e anche sull'interferenza sulla flora intestinale non solo e poi c'è il report c'è una pagina dedicata alle carenze di vitamine una pagina dedicata alle carenze di minerali la pagina lipidomica delle nostre cellule e tutti gli acidi grassi essenziali sono importanti quindi spesso noi teniamo presente solo l'omega 3 o l'omega 6 ma invece come vedete con questo test abbiamo una visione completa e qui il direi massimo esperto che abbiamo grande esperienza ha fatto lezioni magistrali è il dottor Pietro Paci poi il sistema antiossidante da tenere sempre in considerazione poi abbiamo il sistema delle carenze a livello degli aminoacidi per piacere se qualcuno può chiudere i microfoni poi l'impatto ambientale sostanze chimiche metalli pesanti radiazioni il sistema gastrointestinale molto interessante questo qui poi oggi ci farà una bella lezione il dottor Allegrini su questo aspetto poi avete il le varie fasi della depurazione i consigli che possiamo dare le varie carenze e i cibi dove si trovano quelle carenze che possiamo quindi supportare il paziente nel migliore dei modi ecco volevo solo illustrare questo in maniera che chi non conosce il report S-Drive ha più chiara la situazione di quello che dice il dottor Rada dottor Rada you can go now ok so we have finished this quindi per concludere abbiamo concluso questa parte qui sulle carenze vitaminiche per esempio e i processi che determinavano radiation quindi le frequenze elettromagnetiche le radiazioni hanno un impatto un effetto diretto e un effetto indiretto direct effect is like x-rays l'effetto diretto è quello provocato per esempio dalla radiologia nel senso i raggi x l'attack indirect effect is from the soil gli effetti indiretti vengono determinati se vogliamo dal terreno radiation is from uranium la radiazione può provenire dall'uranio e chiaramente il prodotto che ne risulta dopo il decadimento dell'uranio è il piombo per trasformarsi l'uranio che troviamo nel suolo in piombo ci vogliono 4,46 miliardi di anni e in questo processo si producono prodotti radioattivi che sono determinati dalla scomposizione dell'uranio in piombo e sono il toron il radon per esempio polonium il polonium the russians killed the enemies with this i russi uccidevano i loro nemici con questo so this lab quindi il piombo once it gets into the body una volta che entra nell'organismo genera due problemi il primo fenomeno negativo è il bioaccumulo it is not biodegradable cioè non è biodegradabile ok so what happens in this lab it has come from environment quindi questa radiazione da dove deriva deriva dall'ambiente it will go into the body e quindi entra nell'organismo nel corpo umano it will go into the cells e quindi nelle cellule it will go into the brain e al cervello organs agli organi bones le ossa tessuti blood e sangue so this is the main root cause this child only a quindi questa è una causa radicale è una causa di origine se vogliamo e questa bambina man mano che crescerà negli anni this child the history given is the family history of hold on hold on they are given the family history of dementia and premature Alzheimer's ebbene nella storia di questa bambina quindi se facciamo un'anamnesi familiare della bambina troviamo che in questa anamnesi familiare troviamo situazioni di demenza precoce e anche forse did you say dementia and the other and the other is Alzheimer's ok quindi sia demenza precoce che Alzheimer's sono riscontrati nella casistica familiare di questa bambina so the whole family must be investigated by using S-Drive pertanto l'S-Drive dovrebbe essere somministrato a tutta la famiglia must look for toxic metals radiation appunto per andare alla ricerca di metalli di presenza di metalli tossici dovuti a radiazioni ok quindi metalli tossici e radiazioni this child this brain brain stimulates from the brain it stimulates thyroid hormone ebbene qui abbiamo l'illustrazione di come dal cervello avviene la stimolazione della ghiandola tiroidea questo è il collo quindi abbiamo la tiroide produce T4 che si trasforma in T3 e la radiazione qui agisce in quanto blocca i ricettori ecco perché abbiamo la carenza di iodio anche il litio è importante per la tiroide anche il potassio è necessario per la tiroide quindi se noi eliminiamo la radiazione come fenomeno che provoca il tutto noi abbiamo un effetto positivo di guarigione della tiroide in our medical practice we do blood test for thyroid noi nella nostra pratica medica prescriviamo esami prelievi del sangue per la tiroide and we give medications for thyroid e noi somministriamo farmaci per la tiroide we don't screen for toxic metals però non facciamo la schermatura cioè non cerchiamo metalli tossici quando noi facciamo la nostra diagnosi spelt is gluten parliamo adesso del farro il farro è un glutine contiene glutine gluten and thyroid tissue has got similar antigenicity esiste un'analoga antigenicità sia nel tessuto della tiroide sia nel farro nel glutine del farro so we keep treating the thyroid quindi noi possiamo continuare a fare terapia per la tiroide we should also treat for radiation and remove gluten ma dovremmo anche però prenderci cura dell'eliminazione o la riduzione della radiazione e dell'eliminazione del glutine so we can see here dalla dieta ok quindi e questo vedete lo possiamo evincere da tutto quello che qui ho evidenziato so we can I wrap this or anybody won't ask me any question allora prima che cancello questa parte della lavagna ci sono domande ci sono domande sì posso chiedere yes there is a question sì vorrei sapere dal dottor Radda se partendo dalla radiazione lui comunque considera che ci sia del piombo anche se non è stato nominato una presenza di metalli tossici quando lui ha fatto l'elenco iniziale ok Dr. Rada the question is the following you assume and presume from the presence of radiation that there is lead although the word lead was not detected or the element lead was not detected and not even mentioned in the report is that correct no we use medical intelligence to interpret noi ci avvaliamo per questa interpretazione di quello che possiamo chiamare intelligence medica you can do blood test for toxic metals and you'll see noi possiamo fare un richiedere un prelievo del sangue per indagare la presenza dei metalli tossici you can use urine test to detect toxic metals possiamo usare anche l'esame delle urine per individuare e rivelare rilevare scusate appunto la presenza di metalli tossici noi abbiamo fatto tantissimi appunto prelievi e test del sangue e test delle urine per confermare quanto io qui sto deducendo da questo processo di interpretazione che io ho definito e chiamato intelligence medica cioè l'intelligence che deriva dall'indagine che stiamo conducendo for spell do antigen test gluten antigen test allora si possono fare anche dei test antigenici appunto per rilevare per esempio la presenza del glutine quando per esempio la paziente consuma farro noi possiamo far fare altri test tipici dell'indagine medica che sono quelli per esempio sulla tiroide per individuare appunto gli anticorpi a livello dei T3 T4 e così via della tiroide quindi noi possiamo fare tutte queste analisi mediche tradizionali per confermare quanto abbiamo dedotto dall'indagine di intelligence medica che abbiamo condotto dicevo nell'analisi del report ci sono altre domande sì buongiorno io volevo chiedere al dottor Rada cosa suggerisce visto che si trova molto spesso la presenza di radiazioni Yes Dr. Rada what do you suggest considering that with our patients we often encounter the detection of radiation In Europe you have radon test In Europa potete far fare un test del radon for this is ultimately toxic metals quando noi parliamo di radiazione qui facciamo riferimento prevalentemente a metalli tossici so you do urine tests or blood tests per appunto i metalli tossici o la presenza di metalli tossici noi possiamo fare sia la prova del sangue che la prova dell'urine facendo compiere un oligoscanio there you can see especially like urine you can see radioactive materials nell'oligoscan delle urine per esempio noi siamo in grado di rilevare appunto i metalli pesanti you need to collect 24 hours urine è chiaro che stiamo parlando dell'indagine delle urine raccolte nell'arco delle 24 ore we need to do forced diuresis dobbiamo fare una forzata diurisi in modo che possono emergere i metalli tossici appunto dai tessuti the half life ebbene per quanto riguarda il piombo l'emivita è 24 anni è 24 anni l'emivita del piombo è 24 anni cioè si dimezza il contenuto del piombo in 24 anni ci sono altre domande? sì per cortesia nel report c'è anche la voce metalli tossici indica quindi qualcosa di diverso perché in questo caso non è attivata ok in the report there's also another item called toxic metals is this something else compared to what you're talking about? I will come to the next report then we can go through no ci sarà un altro report che analizzerò e illustreremo anche questo la risposta è no so your answer is no which means it's not another section it's part of this one this test shows radiation no qui in questo test che noi stiamo questo report che noi stiamo adesso analizzando mette in evidenza il capitolo radiazioni quello dei metalli tossici o pesanti i metalli tossici è un altro capitolo che tratteremo dopo in un altro report grazie ma non capisco come mai in questo report non compaia anche la presenza di metalli tossici ok so the question again is I don't understand why in this report radiation is highlighted but not heavy metals or not toxic metals why this section this section can only show one indicator at a time once you overcome radiation then the second one will appear come come dire una volta che è stato gestito la question viene messo in evidenza quello prioritario quindi in questo caso la radiazione una volta che si ci si prende cura del fenomeno della radiazione e quindi come dire si abbassa la sua importanza o priorità emerge l'altro indicatore l'altro fattore vi chiedo di farmi domande liberamente quindi se ci sono cose che desiderate chiarire non esitate a fare domande buongiorno vorrei fare una domanda sì volevo sapere se tra le radiazioni diciamo non quelle elettromagnetiche ma quelle di cui stiamo parlando adesso c'è relazione con patologie autoimmuni come ad esempio la tiroidite yashimoto ok i'd like to understand if there is any correlation between these radiations by the way which are not determined by electromagnetic frequencies in this case because you mentioned radiation comes from the soil specifically in this case in this example i would like to know if there is any correlation with the yashimoto disease exactly so the next chart we'll discuss hashimoto assolutamente la risposta è sì e infatti a breve analizzando sempre interpretando il report parleremo della yashimoto so this is hashimoto subclinical hashimoto questo è appunto quindi a livello tiroideo qui abbiamo una yashimoto però si manifesta in questo caso a livello subclinico ok there's a next test I can show you this in detail però c'è un altro test un altro report dove possiamo illustrare più in dettaglio questo fenomeno che presentava cioè che che chiedeva lei cioè della correlazione tra queste radiazioni queste forme di radiazioni che stiamo discutendo e la yashimoto quindi questa bambina è come dire destinata ad entrare in uno stato in cui si svilupperà sempre più una patologia autoimmune mi scusi dovrei fare una domanda sono la persona che ha fatto il test quindi conosco la paziente ok this person asking the question is the person that conducted the test so she knows her patient yeah this is a test sent to me from Italy she's a 10 years old child no 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 Dr. Radha listen to me this person asking the question is the doctor of this patient that you are illustrating your report ok so she's going to ask you a question ok quindi faccia la domanda la paziente già mangia senza glutine da circa un anno non assume glutine da un anno so the patient has been on no gluten diet for a year already for the past year ok the person she hasn't finished the question I'm going to break up the question into segments to translate ok i problemi alla tiroide dal punto di vista clinico in questo momento non sono emersi agli anticorpi there are no problems at the thyroid level at least clinically they have not yet emerged yes però ha una sintomatologia tipica da soggetto tendenzialmente ipertiroideo non assimila nulla cioè in carenza vitaminica di tutto she has however the typical symptoms of a hyper thyroid patient in other words she is unable to assimilate any nutrient ok let me ask if she's finished the question because I'm breaking them up for the translation purpose Dr. Radha please bear with me ha finito la domanda oppure no visto che la sto scomponendo per la traduzione si si mi chiedo soltanto come poterla ulteriormente aiutare visto che il test mi conferma quello che io vedo di lei ma che non vengono confermati ancora dagli esami ematici quindi non c'è una correlazione con gli esami ematici attualmente ok ok esamineremo anche il report successivo a questo se lei ha un attimo di pazienza forse troverà poi la risposta si grazie Il livello mitocondriale. Complex 1, complex 2, complex 3, complex 4, complex 5. I vari complex 1, 2, 3, 4 e 5. CoQ10 comes here. Il coefficiente Q10 si colloca qui. You should show the screen because we can't see the part of the screen. Complex 1, complex 2, complex 3. CoQ10 comes in complex 2. Quindi il coenzima Q10 si colloca al livello del complex 2. Can you see this? Vedete il collegamento. Quindi il coenzima Q10. Mitocondria. Questi sono i mitocondri. Ok. So this means the child is having oxidative stress. Questo vuol dire che la paziente, la bambina, è affetta da stress ossidativo. Adesso passiamo al test successivo. Why we can't detect on blood tests? I'll give you the reasons. Sorry, could you repeat that, sir? Why we can't detect on blood tests? Adesso illustriamo il perché l'esame del sangue, l'esame ematico, non rileva quanto sto per mostrare. Mi hanno mandato un altro report che adesso il dottor Rada sta cercando. Quindi il paziente si chiama Francesco Tripissini. Ok, the report shows... E questo report mostra... Electromagnetic frequencies. Vedete, mette in evidenza prioritariamente le frequenze elettromagnetiche, quindi EMF, electromagnetic frequencies, le frequenze elettromagnetiche. E qui mostra anche le vitamine, come indicatori tra i principali. Il fresitolo, la vitamina A, B1, vitamina B1, B5 e vitamina B5. Under minerals... Quindi stiamo parlando delle carenze. E qui, per quanto riguarda i minerali... Co? Copper. Ah, c'è il rame. Tra i minerali viene evidenziato il rame. E poi viene evidenziato anche la carenza di acidi grassi Omega 6. Under antioxidants... E sotto la voce antiossidanti... Abbiamo l'acido alpha-lipoideico. Abbiamo l'acido alpha-lipoideico. Acid. Carotenoids. Carotenoidi. Phytoestrogeno. E fitoestrogeno. O i fitoestrogeni. Sulforofane. E sulforofene. Sulforofano. Under amino acids... E alla voce aminoacidi. I'll write one. It's taurine. Abbiamo... Taurine. La taurina. Can see toxic metals? Vedete qui metalli tossici. Metalli tossici. So we have toxic metals. Quindi... Abbiamo la voce metalli tossici. You have moles and spores. We have what? Sorry. Could you say that again? Moles... And spores. Spore. Ah. Abbiamo appunto le spore e le muffe. Muffe e spore in questa categoria. In the food avoidance, the most important is barley. E per quanto riguarda gli alimenti da evitare, al primo posto c'è l'orzo. Ok. Can I know who sent the test form? Who sent the test... Dr. Radha? Yeah, I'm coming. I'm coming. For... Let me help them understand thyroid first. Thyroid. Hashimoto's. Allora... Prima... Cercava il nome del paziente, non so per fare riferimento, ma... Non ha completato la frase. E adesso dice... Partiamo prima invece di... Del... Del problema tiroidea... Hashimoto. Quindi la patologia Hashimoto. Hashimoto's goes through five stages. Ora, la patologia Hashimoto segue... Hashimoto segue cinque fasi. Stage one, genetic predisposition. Quindi c'è una predisposizione genetica nella prima fase. Blood test won't pick up. E il prelievo del sangue non... Cioè il test del sangue non lo rileva. Stage two. Cell... Tyroid cells, cell infiltration. Poi c'è la fase due che c'è l'infiltrazione a livello cellulare. Blood test will not pick up. Della tiroide. E anche qui l'esame ematico non lo rileva. At this stage, patient will have psychiatric symptoms, depression, health-seeking behavior. Qui, in questa fase due, il paziente presenta sintomatologia di tipologia psichiatrica, quindi depressione cliniche e quant'altro. Blood test will not detect this. E il test ematico non rileva questa fase, cioè non rileva la patologia nella fase due. S-drive will pick up. Tyrosine. Invece, l'S-drive già comincia a individuare la presenza di tyrosina. Tyrosine, iodine deficiency. Quindi una carenza di tyrosina o di iodio. Selenium efficiency. Oppure, per esempio, la carenza di selenio. L'S-drive già in questa seconda fase è in grado di rilevare queste carenze, compreso anche lo zinco. Lo zinco. Perché per convertire dal T4 a T3, appunto, c'è bisogno di selenio e zinco. S-drive, inoltre, rileverà anche la carenza di litio, che è indispensabile per il funzionamento tiroideo. E anche la carenza di potassio. E anche la carenza di potassio. Per esempio, il test ematico non è in grado di rilevarne la presenza della patologia. Per esempio, nella fase 3 della patologia possiamo trovare mutazioni, cambiamenti a livello del TSH. Occasionally, you get T4 deficiency. Si riscontra, per esempio, qualche volta una carenza di T4. This is in blood test. This is in the blood test, you say? Yes. This one sometimes will get T3 deficiency, 1-1, something like that. E ho anche una carenza di T3. E questo già nella fase 3 è rilevabile dal test ematico. stage 4, you'll find TSH, T3, T4, maybe thyroid antibodies. E poi, nella fase 4, noi siamo in grado di riscontrare il test ematico, ossia il TSH, il T3 e il T4. Full-blown thyroid disease. E invece, quando arriviamo alla fase 5, abbiamo un tiroidismo, cioè quindi una patologia della tiroide che è già full-blown, vuol dire totalmente manifesta. For this child, we are detecting here, stage 2. Mentre in qui, in questa bambina, grazie al report del S-Drive, siamo stati in grado di individuare la patologia, la Hashimoto, già nella sua fase 2. Any questions? Quindi, a livello dell'infiltrazione cellulare. Vi sono domande a questo riguardo? Io una domanda l'avrei. Si può fare l'inversione esattamente come fa nel diabete? Quindi, una volta che sia evidente anche dal punto di vista clinico, riuscire a tornare al livello di salute? Ok, so the question is, you mentioned reversion in diabetes. Is it possible to reverse this pathology, this disease, when you catch it early enough at this level? You take off radiation. Sì, la risposta è sì, basta eliminare le radiazioni. Because radiation is causing all these problems. Perché la fonte radicale, se vogliamo, di tutto questo fenomeno, come dicevo prima, è appunto la radiazione. Quindi l'enorme diffusione, io parlo dalla Sardegna, c'è una grande diffusione della tiroidite di Hashimoto, anche io lo dico per interesse. Anche io sono, diciamo, ho una tiroidite subclinica, perché comunque non è sfociata mai in malattia vera e propria. Quindi bisogna, la causa principale dovrebbero essere proprio le radiazioni. So we have this doctor asking the question comes from Sardegna, which is a big island in Italy, and she says that there is a widespread phenomenon now of tiroidism in Sardegna. And she herself has a subclinical level form of this disease. So she is asking for confirmation. You are confirming that the radiation factor is maybe at the cause of all this. I'm not from that island, so I do not want to say anything. but test out the underground, the furniture that carries radiation. Another problem is people consuming fish. Io non sono sardo, non conosco la Sardegna, pertanto non vorrei esprimermi senza, come dire, avere elementi concreti, eccetera. Però la invito a esaminare o a considerare di esaminare, per esempio, il terreno, i mobili, gli arredamenti, cioè tutti quei fattori, quelle cose che compongono l'ambiente in cui si vive, di cui stiamo parlando, e inoltre anche il pesce, il consumo di pesce e il tipo di pesce e che tipo di eventuali sostanze contiene quel pesce. Scusate, vanno fatti molti test per confermare il problema delle radiazioni quando emerge. Sorry for interrupting, Dr. Radha. No, no, no. Continue. So can we go to the next test? Ok, quindi ribadiamo il concetto di indagare ulteriormente quando si rileva la questione delle radiazioni. Adesso, se non vi sono altre domande, io continuerei con la presentazione. Avrei una domanda, se possibile. There's another question, Dr. Radha. Vorrei sentire come possiamo eliminare queste radiazioni o perlomeno proteggerci da queste radiazioni. Come possiamo eliminare le radiazioni? No, visto che le radiazioni sono la causa, come possiamo perlomeno proteggerci? Ok. How can we either eliminate, well if it's difficult to eliminate radiation, how can we protect ourselves from radiation? Ok, I make it very simple. As long as we are living on this earth, the ground soil is going to affect us. Allora, cercherò di essere quanto più semplice possibile. Fintanto che noi viviamo su questo pianeta, è ovvio, è chiaro che il terreno su cui viviamo avrà un impatto su di noi. Any other? Quindi questa era la risposta, ci sono altre domande. Come dire, questa immagino fosse la risposta sull'eliminazione delle radiazioni. Il terreno è fonte di radiazioni, quindi voglio dire eliminare le radiazioni sarà difficile fin tanto che viviamo su questo pianeta così com'è. Sì, Giorgio would like to add something to this. Allora, mi occupo di queste interferenze dai campi elettromagnetici ma anche interferenze dall'inquinamento tellurico da moltissimi anni. Direi che è oltre vent'anni che conosco queste tematiche. Dalle radiazioni telluriche. Pensate che in Germania e in Svizzera, molti di voi lo sanno, prima di costruire in molte zone fanno un'indagine proprio tellurica di quella zona prima di costruire una casa. As a matter of fact, in Germany and in Switzerland, before they build a house, they conduct tests on the earthquake after effects that have impacted the terrain, the soil. Anche perché oltre a questo c'è da, come dico sempre, pensate a Radon, pensate ai raggi gamma, quindi che decadono come appunto insegnava il Dottor Radha poco fa. Because we have gamma rays, radon, you know, with each of their own ME life, half life, that Dr. Radha was mentioning earlier. E le radiazioni si sommano. And radiations add up. Quindi dai viaggi in aereo al dove dormi, dove vivi e dove lavori, c'è un accumulo di queste radiazioni. E quindi quello che sta appunto illustrando Dottor Radha è meraviglioso, è molto utile e importante. Faremo, se poi siete d'accordo, degli eventi specifici su questo. So, what Dr. Radha is illustrating is wonderful and very, very useful. And if any of you attendees have any specific interest in these topics, we can organize specific meetings on this topic. Very fantastic. Ok, there's a suggestion for you all. We form actually a WhatsApp group and discuss cases in Malaysia. Noi in Malaysia abbiamo formato un gruppo WhatsApp per dibattere, discutere. And also in India. E anche in India. So, we can form on a later day. We need a translator. We need someone who can speak English. Quindi noi, con l'ausilio magari di un interprete, di un traduttore. Allora, quindi dicevo che si potrebbe eventualmente organizzare qualche sessione su quel tema, visto che noi abbiamo appunto creato questi gruppi che studiano e fanno monitoraggio di questi fenomeni sia in India che in Malaysia. Però adesso tornando all'argomento e rispondendo alla domanda che cosa si può fare per tutelarsi dalle radiazioni. Ebbene, si possono per esempio consumare questi integratori probiotici, gli acidi alfa lipoici. Sì, l'acido alfa lipoico, l'acido acetyl cisteina. Quindi l'acido N-acetyl cisteina. Why do you mean C? E la vitamina C. Ok. So... Questi sono integratori che possono tutelare, proteggere appunto dalle radiazioni. So, the next case is, these are the findings. Ebbene, quindi stiamo adesso analizzando il secondo report, quindi il secondo caso. E questi sono stati i riscontri. Ok. Ok. The question was... Wait. First report, second report... I'm not sure whose test... I mean the person... Cocci... Hold on. Hold on. Hold on. Ok. Can you see toxic metals? Vedete qui metalli tossici? You have six common toxic metals. Number one, mercury. Allora, ne abbiamo sei di metalli tossici principali. Al primo posto abbiamo il mercurio. Mercury can come from tooth amalgam. Per esempio, può derivare dalle amalgame dentali. It also can be coming from big fish like salmon, tuna and other fish. Può anche derivare dai pesci di dimensioni più grandi, come per esempio il tonno o il salmone. Second is cadmium. Il secondo metallo tossico che viene spesso riscontrato è la presenza di cadmium. Cadmium comes from secondary smoking or primary smoking. E il cadmium deriva prevalentemente dal fumo. Fumo primario o fumo secondario. Or third hand smoking. O anche terziario. The third toxic metal is lead. Il terzo di questi metalli tossici, chiamati anche metalli pesanti, è il piombo. Lead can come from paints, ground soil. Può derivare dal sottosuolo, può derivare dalle tinture, dalla pittura. Can come from car exhaust. Dai fumi del discarico delle automobili, per esempio. Okay. The fourth one is aluminium. Il quarto metallo tossico è l'aluminio. Aluminio comes from cooking utensils, canned drinks. Viene dalle bevande in contenitori di alluminio, oppure dalle stoviglie che usiamo per cucinare. Fourth one, fifth one is arsenic. E poi al quinto posto abbiamo l'arsenico. Arsenic comes from water and soil. Che deriva dall'acqua e dai terreni. So this is the root cause. Quindi questa è la fonte radicale, cioè la causa, la radice. So the body is producing a run short of alpha-lipoic acid, carotenoids, sulfurofen, to remove this. E quindi cosa succede? Che quando noi siamo esposti a questi metalli tossici, l'organismo produce appunto l'acido alfa-lipoico, oppure i carotenoidi, oppure il sulfa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa. Quindi tutte queste sostanze che vengono prodotte chiaramente sono prodotte grazie al nostro sistema immunitario. Ed è questa la ragione perché poi hanno un impatto negativo su questa persona, sia le muffe che le spore, a cui può essere esposto. Quindi si diventa più intolleranti a quelle sostanze e a questo punto vi chiedo se avete domande su questo argomento. I can detect cancer from S-Drive. Quindi le risposte noi le possiamo andare a trovare nel report sull'S Drive. I don't... Scusi, posso fare una domanda? Posso fare una domanda anch'io? There are two questions, Dr. Radha, for now. Ok, ok. Andate. Non ho capito il collegamento fra le muffe e spore e appunto l'indicazione dell'acido alfa-lipoico, eccetera. The question is to clarify, because it wasn't clear what the link is between the moulds and the spores and the alpha-lipoic acid and the other substances that you mention as a reaction to being exposed to toxic metals. This is an antioxidant. Quindi l'acido alfa-lipoico è un antiossidante. So it's trying to protect against toxic metals. It's trying to remove. Chiaramente è una manifestazione del sistema immunitario che cerca di proteggere dall'esposizione ai metalli tossici. L'altro lavoro è il detox. Chiaramente una cosa che possiamo fare è quella di disintossicare. Quindi possiamo fare detox per disintossicarci dalla contaminazione. Poiché la produzione di questi fattori è un tentativo dell'organismo di disintossicarsi dalla contaminazione, chiaramente si generano delle reazioni. Chiaramente, yes, but the question was on the moulds and the spores. That you mentioned briefly, but you made no connection. Okay. You didn't connect them. I didn't translate the connection. Okay. Moulds and spores are from the icon. Yes, I know, I understand, but the moulds and the spores, when you mentioned moulds and spores, after you listed all the factors that are produced as a reaction to protect against toxic metals, you didn't make the connection. In other words, to what category do moulds and spores relate? Do they relate to? Immunity. Okay. To immunity. So they are impacting the immune system. In other words, they are prolonging the list that you have below. Because microtoxin. You can do microtoxin test. Okay. Niente. Per quanto riguarda l'espore, per rispondere alla sua domanda, quello che ho capito io. perché le ha indicate senza dire nulla su appunto i funghi, le spore e le muffe. Pare che siano da considerare come appunto cause, se vogliamo, che hanno un impatto sul sistema immunitario e che quindi portano a una reazione del sistema immunitario. Puoi dire una cosa sulle muffe e le spore? Sì. Sì. Volevo dire che nella mia esperienza ho trovato un muffe spore e poi parlando con la cliente è venuto fuori che lei abitava in una casa dove aveva avuto diverse problematiche a livello di acqua, allagamenti vari, eccetera. Quindi c'era una relazione molto stretta con l'ambiente in cui abitava la paziente. Sì. 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 Se volete vi illustro tutto il percorso di stress ossidativo. Prima di fare questo volevo aggiungere appunto la traduzione di quanto ha detto la dottoressa adesso che chiariva per lei il concetto e la relazione con le muffe e le spore cioè nel momento in cui appunto i metalli pesanti o metalli tossici hanno un impatto sugli antiossidanti chiaramente questo riduce il sistema immunitario e quindi si diventa più intolleranti nei confronti delle muffe e delle spore come conseguenza e appunto dell'abbassamento delle resistenze a causa appunto dell'incapacità di produrre quegli antiossidanti. Sì. I metalli tossici riducono la capacità del nostro sistema immunitario a causa della del sequestro degli antiossidanti quindi il sistema immunitario poi non è in grado di rispondere a muffe e spore che che vanno che che insomma che creano poi problemi questo dovrebbe dovrebbe essere. What was the test? Yes, no, the lady. No, 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 I was just, I was just trying to find it. I was just, I was just trying to find it. Se vuole, I was just trying to find it. Easy. She was just translating her own comment, which was in English that I had already translated. Okay. She of course did a better job because she's a doctor. What's her doctor's name? Come si chiama lei? Deborah, Deborah Queen, mi scuso, no, no, ci mancherebbe, non volevo assolutamente. No, ma si, sicuri. No, no, ma. Ci mancherebbe, non volevo passarla avanti. Ma lei non... No, mi scusi, mi scusi, mi scusi, mi scusi. Lei si permetta pure di intervenire. Se io dico qualcosa che non è chiaro e lei, visto che parla così bene l'inglese, lo capisce benissimo il dottore in diretta e comunque ha avuto difficoltà a comprenderlo, perché ogni tanto è difficile comprenderlo, lei intervenga pure per aiutarmi e correggermi. No, no, ci mancherebbe. Mi scuso, però era giusto per chiarire, perché non avevo ben capito neanche io questa connessione, ma alla fine sì, era questo il giro tra antiossidanti e muffe. Ok. Perfetto, grazie. Grazie, grazie, dottor Sadevamo. Infatti adesso è più chiaro, in effetti. Grazie. Dottor, I need your help now, because it's a little technical. Allora, dottoressa, adesso il dottor Rada le chiede aiuto, perché sta per entrare in un argomento molto tecnico. Yeah. Ok. So, this is a molecule, this is a proton, and proton has got two electrons, pair electrons. E quindi abbiamo qui una molecola. Let me do the doctor translate. Ah, ok. Let's, ok. Because it's going to be technical. Ok, dottoressa, faccia a lei la traduzione. Oddio, va bene. I'll try, I'll do my best. Ok. Quindi qui abbiamo una molecola, c'è un protone, ci sono due elettroni, questo è un protone. So, during, during a reaction, it loses one electron. Durante la reazione perdiamo un elettrone. Dal momento che questa molecola non è stabile, ha bisogno di catturare un altro elettrone da un'altra molecola. Questo è quello che succede quando, quando tagliamo una mela e le due metà le poniamo sul tavolo. Ok, so now, if you look at an oxigen molecule, it is bilamina, by two molecules. So, during, during, and the oxygen doesn't catch fire. Allora, questa è una molecola di ossigeno, scusate, ma io sono fuori con i cani, con l'auricolare, quindi non è che sento proprio super, super bene. Would you repeat just a second, because I'm outside, walking on the dogs, so I'm following you with the mango miles, so I don't really... So, this one, this one has to be, when the reaction takes place, quando avviene la reazione, perde un elettrone, it'll become singlet, oxygen. e diventa un ossigeno singoletto. So, if you want to reduce it further, you add one electron, So, this one becomes a superoxide molecule. Se vogliamo ridurlo ulteriormente, aggiungiamo un elettrone e lo facciamo diventare ione superossido. This one is what we call reactive oxygen species. E questa è quella che noi chiamiamo una specie reattiva dell'ossigeno. If you reduce it further down, add one more electron. Se gli aggiungiamo ancora un elettrone, lo riduciamo ulteriormente. It becomes peroxide. Diventa uno ione perossido. You add two hydrogen atoms. Se gli aggiungiamo due atomi di idrogeno. It'll become hydrogen peroxide. Diventa perossido di idrogeno, acqua sigenata. This is very reactive. E questa è una specie molto reattiva. So, it's not reactive, but to become reactive... Non è reattiva, ma diventa reattiva. You can add transitional metals. Quando hai un metallo di transizione. Come ad esempio il ferro. Copper. Il rame. Then this one will become a hydroxyl radical. E quindi avremo un idrossile di idrogeno. This causes damage to lipids. E questo che causa i danni ai lipidi, ai grassi. Proteins. Alle proteine. And nucleic acids. E agli acidi nucleici. So, nucleic acid is ribose and deoxyribose. Il ribosio e il desossiribosio. Questi sono gli acidi nucleici. Proteins and lipids. This is where oxidative stress takes place. Questo è proprio il bersaglio dello stress ossidativo. This you will see in S drive as copper deficiency. Zinc deficiency. Questo è quello che vedete nella S drive come mancanza di arame, di zinco. Manganese deficiency. Manganese. Mancanza di manganese. Mitochondria coQ10 deficiency. E mitocondriale. Non ho sentito che ho passato una macchina. Mancanza mitocondriale. Would you repeat please? Mitochondria what? Manganese deficiency in mitocondria. Ah, assenza di manganese nei mitocondri. Ok. So this is the first stage. It's caused by toxic metals. Please. This can be caused by toxic metals, chemicals, radiation, inflammation, lack of antioxidants. All these. I haven't seen anything and heard anything for a while. Okay. All these problems at cellular level can be caused by toxic metals, chemicals, inflammation, bad bacteria in the gut. e batteri cattivi nell'intestino. So I am catching at cellular level, at molecular level. Quindi io sto facendo un'analisi a livello cellulare molecolare. So I correct this. I reverse diseases. So this is how I am able to reverse chronic diseases, diabetes, hypertension, autoimmune. Quindi questo è il modo in cui io posso andare verso patologie cronico degenerative come il diabete e patologie autoimmuniche. Enrico Stienz. Sì, il dottore ha detto questo è anche il modo per intervenire, per invertire il percorso. Ah, invertire. Reverse ha detto. Sì, ma lei è fuori. Se lei è fuori non capisco come fa a tradurre. Eh, sono con gli auricolari. Sto facendo del mio meglio. Ha tutta la mia simpatia e solidarietà. È stata bravissima. Perché mi passano pure le macchine di fianco, quindi spero che abbiate capito comunque. Benissimo, benissimo. I will show this in the next test. Vi mostrerò questa cosa nel prossimo test. Now you can relax, let Giorgio take over. Yes. Ok. Ripasso la parola. Sì, sì. Mi mutizzo. Grazie dottoressa. Comunque mi chiama Giorgio, per cui dice adesso fai che Giorgio traduca. Dottor Rada mi chiama Giorgio, anche perché non ci siamo mai conosciuti prima, quindi… Ok. This is a test of a ten-year-old boy. Adesso abbiamo un test di un bambino, di un ragazzo di dieci anni. This test was sent to me from Italy. L'ho ricevuto dall'Italia. He has loss of hair, total hair. Il bambino ha perso i capelli, totalmente. And he is emotionally upset, always emotional. Il bambino ha una carica emotiva molto forte. In the night he grinds his teeth. Nella notte soffre di brussismo, cioè sgranocchi ai denti. So they have done various tests, hormone tests, autoimmune tests. Hanno fatto vari test, ormonali, autoimmuni. They could not find anything. E non hanno riscontrato nulla. And they only found a little thyroid changes. Hanno rilevato solo una piccola trasformazione a livello tiroideo. So he had several therapies of cortisone. E' stato sottoposto a varie terapie al cortisone. And various creams. E anche pomate, creme. And the parents have given up. I genitori si sono arresi a un certo punto. So I'm going to decode this test. Quindi adesso io farò un'interpretazione di questo test del report. This test, the boy's name is Cristiano Miceli. Il bambino si chiama Cristiano Miceli. The child has got electromagnetic frequency. E vedete, sono stati riscontrate appunto frequenze elettromagnetiche nel report di questo bambino. Electromagnetic frequency disturbs melatonin in the brain. Le frequenze elettromagnetiche hanno un impatto sulla melatonina a livello cerebrale. Disturbs sleep. E questo disturba il sonno. It disturbs calcium metabolism. Anche il metabolismo del calcio. It disturbs DNA. Ha un'interferenza anche a livello del DNA. Ok. So. Electromagnetic frequency causes VGCC. Vascular growth calcium channels. Ha un impatto anche sui canali di crescita del calcio. Don't worry, don't worry. This one will cause nitric oxide release. E questo porta poi a sprigionare l'ossido d'azoto. Nitric oxide is beneficial. L'ossido d'azoto è qualcosa di benefico. Però se è eccessivo alla produzione di ossido d'azoto, chiaramente genera… Peroxynitrate, sorry. Peroxynitrate. This causes the damage. Ed è il nitrato di perossido appunto che genera il danno. So this pathway is RNS pathway. Quindi questo percorso è un percorso RNS. Reactive nitrogen species. Quindi una specie di nitrogeno reattivo. So let's go back. That's his test. Torniamo al test, al risultato. So he may not be sleeping well because of electromagnetic frequency. Quindi il bambino non dorme bene a causa appunto delle frequenze elettromagnetiche. So the next test he has is… He has… La prossima pagina importante del suo report è questa. Detain and biotin. All right. Quindi la biotina… Stiamo parlando qui del sistema immunitario, quindi… Biotin… E rilevata… La biotina è… E la biotina è importante per la crescita dei capelli. La biotina è importante per la crescita dei capelli. And the vitamins… Per quanto riguarda… He has… Sulfur… La categoria vitamine… Abbiamo… Iodine… Iodio… Manganese… 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 Sorry, you said vitamins, right? Under vitamins. This is under minerals, sorry. Minerals. No, il dottore aveva detto vitamine, invece sta parlando di minerali. Quindi è la categoria minerali. Aveva detto vitamine. E sono lo iodio, il manganese e il potassio. E lo zolfo. Under omega, he has got omega-3 and omega-6 deficiency. Per quanto riguarda, invece, gli acidi grassi, abbiamo carenze di omega-3 e omega-6. Under antioxidant… Per quanto riguarda la categoria antiossidanti… He has flavonoid deficiency. Carenze di flavonoidi… And the amino acids… E per la categoria aminoacidi… He has… Pyrusine… C'è… Carenza di tirosina… Leucine… Leucina… Trionine… Trionina… And glutathione… Glutamina… Glutamina… E glutamina… And the environmental factors… Per quanto riguarda gli ambient… I fattori ambientali… He has got toxic metals… Si riscontrano metalli tossici… He has parasites… Sono presenti parassiti… And post-virus… E… Parasites… Ed elementi post-virali… Post-virali… Quindi elementi post-virali… In the food avoidance… Per quanto riguarda gli alimenti da evitare… Can you see wheat? Vedete che c'è il frumento… Wheat… And liquor… E anche l'alcol… Liquor… This child… Has been failed… By liquor… By liquor… By liquor… You mean alcohol… Yes alcohol… Yes… Si… Alcolici… Insomma… Ebbene… Questo paziente… Insomma… Se vogliamo… Può essere… Effetto… Cioè… È stato deluso… Dalla… 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 Contributo medico… Che era possibile… Dalla… Ok… This child… Is failed… By our medical profession… Quindi la nostra… Professione medica… Ha fallito… Nel gestire… Questo paziente… Our blood test… Is two dimensional… Perché… Il test ematico… Che viene fatto… In questi casi… È un test… Bidimensionale… What I'm… What I'm showing… All the while… Is three dimensional… Invece… Quello che qui… Stiamo illustrando… È tridimensionale… So… I show… The three dimensional… Decoding… Of this test… And will help… This child… To recover… Quindi… Io sto illustrando qui… Interpretando… Il report… Un approccio… Tridimensionale… Che può esserci… Di grande aiuto… Nel portare aiuto… A questo… Piccolo paziente… So… Can't see… Iodio… Vedete lo iodio qui… This is Hashimoto's… Questo… Ha a che fare… Con… Il tiroidismo… Di Hashimoto… Stage one… Stage two… Siamo in… Prima e seconda fase… This is in stage two… Questo illustra… Che siamo in… Fase due… Tyrosine stage two… Anche… La tirosina… Indica… Fase due… Blood test… Didn't detect… E… Il test ematico… Non è… In grado ancora… Di rilevare… La patologia… Ashamoto… In questa fase due… According to… According to the email… The blood test… Was normal… Infatti… Io ho ricevuto… La mail… Che diceva… Che… Il test ematico… Risultava normale… They said… There's a little… Thyroid change… Indicava semplicemente… Una piccola… Un piccolo cambiamento… A livello tiroideo… So… Most probably… In stage three… Quindi… Probabilmente… Si trova già… In fase tre… So… They won't do anything… In the body… Questo vuol dire… Che non si interviene… In questa fase… In questo momento… Delle… Delle… Delle analisi… Non si interviene… Thyroid… Questa è la tiroide… Disturbed by… Che viene disturbata… Toxic metals… Dall'effetto che hanno i metalli… Tossici… E dal frumento… Number one… Number two… Questo è al primo posto… E questo è al secondo posto… So… This child is going towards… Autoimmune… Questo bambino… Questo bambino… Questo bambino… È già… Lungo il percorso… Di sviluppare… Una patologia autoimmune… So… Someone has missed autoimmune… Questo… Significa che qualcuno… Non ha colto… Questi messaggi… Any questions here? Vi sono domande… A questo riguardo? Eh… Buongiorno dottore… Mi scusi… Sono sempre io… Eh… Però io… Mi soffermerei molto… Anche sul… I parassiti… Perché… Il fatto che… Di drigni… I denti di notte… E che… Abbia perso i capelli… Per la mia… Esperienza… Posso dire che… Molto spesso… Se riusciamo… A lavorare… Sconfiggere i parassiti… Molti problemi… Si… Risolvono… E poi… Certamente… Ci sono tutti… L'indicatore… Che è giustamente… Indicato lei… Della tiroide… Questo senza dubbio… Però… Non sottovaluterei i parassiti… Ok… Questo è… Grazie… Quindi oggi sto imparando io qualcosa di nuovo. Però a questo punto le chiedo, dottoressa, se io elimino i parassiti, a questo punto ci sarebbe una risoluzione di quel caso di tiroidismo? Sì o no? Sì o no? Anche di assorbimento, problemi di assorbimento che il bambino può avere. The answer is yes on the absorption of nutrients by the child, the resolution of the teeth grinding at night and sleep. Yes. Tell the doctor I'm going to show alternative view of this. Adesso, dottoressa, desidero illustrarle una visione alternativa di quanto abbiamo già illustrato. La tirosina quindi si converte in tiroxina. Quindi la tirosina si converte in tiroxina. It also converts to melanin. Si converte anche in melanina. It also converts to dopa. Si converte anche in dopamina. Dopamina converts to noradrenalina. E la dopamina si converte a sua volta in noradrenalina. And adrenalina. E in adrenalina. Question, where is this produced? Allora faccio una domanda. Dove si produce la tirosina che si converte a sua volta in tutte queste altre? Coming from phenylalanine. Deriva dalla phenalina. Phenalina. So it's coming from the food, it has gone into the intestine, and from the intestine is absorbed into the liver. Quindi proviene dall'alimentazione, va... Where does it go from the... Before it gets to the liver? Sorry. Can you repeat what you said? It goes to the intestines. Ah, ok, quindi l'alimentazione, deriva dall'alimentazione, va all'intestino e poi dall'intestino entra nel fegato. So the child's problem is dopamine. Quindi il problema del bambino è la dopamina. Causing grinding of teeth. Che porta appunto al brussismo. Questo aggiunto ai parassiti Sommato ai parassiti porta appunto al degrignare i denti. Any questions from here? Ci sono domande? Thank you doctor for learning, I learned something new. Grazie dottoressa per aver sottolineato questo aspetto dei parassiti perché ho imparato qualcosa di nuovo. Oh grazie a lei invece. Sì, avrei io da una domanda. Another question. Yes. Per aiutare l'organismo a eliminare questi metalli tossici, oltre a dare magari antiossidanti e quello che serve, usa anche altre stranze? Scusi, puoi ripetere perché non ho sentito, c'è stato un lapsus nella comunicazione. Quindi oltre agli antiossidanti ho perso la seconda parte. Sì, oltre a magari supplementare le cose che mancano, da anche delle sostanze specifiche che eliminano i metalli tossici. Ok, so the question is, when it comes to toxic metal contamination, therefore, besides supplementing with antioxidants, Is there anything else that you suggest to maybe help detox or to do something else besides supplementing with antioxidants? Ok, can I make one phone call to Ian first before I answer this question? Ok, posso fare per favore una domanda, prima una telefonata a Ian, Ian Lyons, prima di rispondere alla sua domanda. Sta telefonando adesso a Ian. Mi sta chiedendo se può presentare la formula per l'intestino, quindi vuol dire un integratore, immagino. Ok, 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 I'll tell them, bye. Ok, I got the permission to tell you. Ok, mi è stata data l'autorizzazione per rispondere a questa domanda. So I formulated... Io ho creato una formula. It's available in Malaysia and India at the moment. Attualmente è autorizzata per la vendita in India e in Malaysia. So you'll take it out one sachet. È un sacchettino che tiriamo fuori dalla confezione e contiene cinque capsule. Oh no, no. It has got five capsules. Quindi contiene queste cinque capsule. 33 different ingredients inside. Ci sono che contengono 33 ingredienti diversi. It... It... Here in Malaysia we are doing it in compounding pharmacy. Quindi vengono appunto prodotti... Yeah, I know that you are in Italy you are not supposed to do all this. But I'm just showing you some details. Hold on. So che in Italia questo, per esempio, magari non è consentito. Ok, so we stop here. We want to explain to you one more thing. The medical way of doing it is... It's not... It's not... It's not... It's not... Entra nel microfono e io non riesco a sentire il dottor Rada. In medical line, DMSA, EDTA is allowed. But you have to check with your... What is EDTA and what is O-M-S-A? Can I just... DMSA. DMSA. Can I just express them as they are or do I need to explain what they are? No, no. Just explain this. This is a medical term. But we have to look at Italy whether it allows this or not. Medical community can use this. If you have to check the regulation, you have to check the regulation. Chiedi di riattivare il microfono, sia a dottor Rada che a Mike, riattivate il microfono. Sì, infatti avevano unmuted il mio microfono per spegnerli tutti. Doctor Rada, dovresti spiegare il microfono. Ok, ora è inutile. Ok, ora è inutile. Ok, mi spiegherò e poi ti racconti. Ok. D.M.S.A. e D.M.S.A. sono state approvate dai regolatori. Dovete controllare se sono stati autorizzati dal regolatore italiano. Allora, se quindi il regolatore italiano ha autorizzato le DTA e il D.M.S.A., a quel punto questi rimedi o integratori possono essere utilizzati per eliminare gli effetti, e quindi disintossicare degli effetti dei metalli tossici. Sì, posso dire la mia un attimo per piacere. Giorgio is explaining. He wants to comment on this. Dottor Rada. Sì, in Italia abbiamo proprio da tempo, anche nella nostra scuola di alta formazione, portato avanti dei corsi per eliminare i metalli pesanti, sia con la terapia con le DTA in vena, quindi terapia calante, e poi molti, tra cui anche il dottor Raimondo Pischi, Sante Guido Zanella, Mauro Mariani, insomma da sempre la professoressa Maria Elena Ferrero, fanno proprio terapia calante in vena. Oltre che prodotti come, chiaro, anche quello che ha appena menzionato il dottor Rada, il D.M.S.A., e poi coriandolo e chlorella. E poi naturalmente, self-food, come sapete, che è stato studiato proprio l'eliminazione dei metalli pesanti. Grazie, grazie, grazie se intervengo. Farmacy laws, Italian pharmacy law. Yes, yes, Giorgio confirmed that in Italy they have, well, the regulators have approved the EDTA and the D.M.S.A. as well, and obviously he mentioned self-food and all the other things. Fantastic. Sì, there's a gentleman who wants to ask a question. Scusi, dottore parli pure. Sì, Dino, Raimondo Pisghe, il D.M.S.A. non è nella farmacopoeia italiana, non è approvato, però può essere ottenuto tramite ricetta, richiesta da parte dell'operatore sanitario, si può trovare in Svizzera, in Germania. Altrettanto il D.M.S.A. come il D.M.S.A., quindi l'EDTA, fra l'altro, è reperibile con difficoltà, ma gli altri due, il D.M.S.A. e il D.M.S.A. sono, per questi due è necessario fare richiesta in una farmacia che può essere appunto quella Svizzera che è la più comoda. Però non sono presenti D.M.S.A. e D.M.S.A. nella farmacopoeia italiana. Ok, so mi permetta di tradurre per il Dottor Radha. Dr. Radha, I'm going to translate what the doctor just took the microphone to explain and add to what Giorgio had said that I translated. He said that EDTA, D.M.S.A. and D.M.S.A. are, as a matter of fact, not being approved by Italian. Well, EDTA has been approved by Italian Pharmacopoeia, in other words, by the pharmacological regulators, but not D.M.S.A. and D.M.S.A., which are available in Switzerland, and one may request them there. Ok, I am not going to cross boundaries because I want to explain to all doctors. This is the available management and up to the doctors which country they are in. Ok, quindi io adesso certo non voglio entrare nel tema delle diverse giurisdizioni e quanto è autorizzato in un paese rispetto ad un altro. Io vi rispondo in generale su come gestire, se vogliamo, l'impatto dei metalli tossici e quindi come procedere alla tutela e poi ciascun medico chiaramente fa le proprie scelte in virtù e in funzione di quello che è consentito e quello che non è consentito. Ok. Ok, metionine converts to homocysteine. Quindi la metionina si converte in homocisteina. Homocysteine converts to cistationine. Questa sua volta in cistationina. Cistationine converts to cysteine. E la cistationina si converte in cisteina. So it converts to glutamine. E la cisteina a sua volta in glutamina. So glutatione. Quindi il glutatione. Has three molecules. One is. E' composto di tre molecole. Cysteine, this one. Una è la cisteina. Glutamine. L'altro è la glutamina. And glycine. E poi la terza molecola è la gliceina. La gliceina. So let's look here very carefully. Quindi attentamente. Can you see? Vedete che il paziente era stato rilevato nel test, nel report. la presenza di glutamina nel paziente. This whole thing is in the liver. Era stato rilevato la glutamina. E tutte queste sostanze qui sono contenute nel fegato. Ok. So this is trying to remove toxic metals. Questa è una reazione, se vogliamo, dell'organismo che cerca di smaltire i metalli tossici. So it rends short of glutamine. Quindi c'è una carenza di glutamina. Ok. So EDTA also can remove toxic metals. DMSA can remove. DMPS can remove. Chiaramente le DTA, il DMSA, il DMPS, eccetera, possono tutti contribuire a risolvere questo problema. Cioè a risolvere, a cercare di contrastare questo problema. Questo è un fenomeno perché si manifesta naturalmente nell'umano. Ok. So this is what is going on in the liver for him. Quindi questa è l'illustrazione di qual è il processo, se vogliamo, metabolico nel fegato. Glutamina è la madre di tutte le sostanze disintossicanti dell'organismo. Ok. Anybody want to ask me any question before I show a little bit more? Quindi ci sono altre domande prima di andare avanti? Ok. If no questions, what I do? I want to show the next step. Allora, se non ci sono domande, io passo al passo successivo. Mark, se mi permetti, se puoi chiedere un chiarimento rispetto all'attività dell'EDTA rispetto al mercurio, che mi risulta essere l'ultimo a essere chelato. Ok. There's a question from one of the attendees, Dr. Radha. And the question is related to EDTA with regard to mercury. Is it able to to take care of the mercury contamination? It is a tough question because you have to do oral chelation or intravenous chelation. Guarda, è una domanda molto difficile perché l'acclinazione dovrebbe avvenire a livello orale o a livello one is oral and the other is intravenous intravenous, quindi a livello intravenoso, endovenoso. Ok, so we have to follow either British pharmacopoeia, American pharmacopoeia, or Australian pharmacopoeia, or Italian pharmacopoeia. Quindi dovremmo chiaramente aderire e seguire quelle che sono la pharmacopoeia americana, britannica, australiana o italiana. Ok. If it's oral, you know it takes for many years. Se viene somministrato per via orale, what happens for many years? Sorry, again? It will take many years to remove mercury. Ci vuole, quindi per la somministrazione per via orale richiede tantissimi anni di somministrazione affinché si possa, appunto, smaltire il mercurio. Because we are not removing from the plasma alone. Perché non stiamo rimuovendo il mercurio dal plasma, solo dal plasma. Mercurio would have gone into tissues, organs, including brain. Perché il mercurio sarebbe già, a questo punto, in altri tessuti, anche il cervello, compreso il cervello. Organi, tessuti, cervello. In the brain, EDTA can cross the blood-brain barrier. Chiaramente l'EDTA può superare la barriera cervello-sangue. Quindi questo è un altro argomento, un argomento importante, su come, appunto, fare la chialazione dei metalli pesanti. Mike, noi su questo aspetto facciamo proprio formazione sulla scuola di alta formazione e abbiamo già affrontato queste tematiche su come rimuovere i metalli pesanti. Ok, we have already touched upon these subjects in our high school training programs. So this is a topic that we are dealing with within our school, and therefore it is a topic that we are... Ok, so we stop at this because that's the question they ask me. This one you have to follow the regulatory affairs of Italy. Quindi, è chiaro, io stavo continuando a parlare di questo argomento perché questo era il argomento che è emerso dalle domande che mi sono state poste. Pertanto la risposta che io posso dare è quello di seguire quanto viene suggerito in Italia nei vari corsi che sono stati citati da Giorgio Terziani e inoltre anche aderire a quelle che poi sono i regolamenti delle autorità in Italia. Ok, any other questions before I show something else? Quindi prima di andare oltre, ripeto, ci sono ancora delle domande? Ok, so can we see liquor? Vedete qui l'alcol? Alcohol. So, this is because of fermentation in the intestines. Questo è provocato dalla fermentazione a livello intestinale. So the blood supply from the intestine to the liver. Quindi c'è qui una trasmissione dal livello intestinale al fegato attraverso il percorso del sangue. So, this blood supply is called superior mesentric artery, mesentric vessels. Quindi i vasi sanguigni mescentrici, inferior mesentric vessels. superiori e quindi i vasi inferiori che permettono questa trasmissione. Chiaramente la trasmissione delle sostanze che vanno dall'intestino al fegato. So it goes in the portal way. Quindi passa attraverso la portale. So now this child also got fatty liver. Quindi questo bambino, a questo punto, è affetto anche da fegato grasso. Because of liquor. Alcohol. E questo a causa dell'alcol. But it does not come as liquor, it will come as a compound called SLD-hyde. Ma non si manifesta o non deriva dall'alcol in quanto tale, ma da un composto che si chiama acetil-hyde. Don't worry, this is a compound. Ok, un composto, l'acetil-hyde. Ok, so the liver is now trying to remove this plus toxic metals. Quindi a quel punto il fegato è costretto a smaltire sia l'acetil-hyde che i metalli tossici. So, any questions here? Ci sono domande su questo percorso? This child will improve if he can remove toxic metals. He will improve, but if we don't do this with this, he's going into autoimmune. Quindi questo bambino può essere aiutato se noi eliminiamo i metalli tossici, eliminiamo anche il frumento, che sono stati rilevati entrambi, e così preveniamo l'arrivo allo sviluppo della patologia autoimmune. Any questions? Ci sono domande? How is the alcohol transformed into acetil-hyde? It's a part of the metabolism, the liver metabolism, or the intestinal metabolism, but that's a totally different subject. But what I'm saying is, alcohol is not transported as alcohol. It has to convert to some of the subdivisions of the breakdown of alcohol. La domanda riguarda appunto la metabolizzazione dell'alcol in quell'altra sostanza, diciamo che questo non è tanto l'argomento che mi interessa sottolineare. Il fatto è che esiste questo fenomeno metabolico che porta alla trasformazione, come per dire che l'origine non è dettata dall'alcol, ma dalla trasformazione che si produce. Può essere legato al fatto di sviluppo di candida nell'intestino oppure no? You said candidiasis or fungus? Candidiasis. Ok. Quindi candidosi o funghi in generale? No, la dottoressa dice candida. Quindi posso cancellare questa parte? Candida produces toxic metals. It's ethanol, uric acid. Quindi la candida produce etanolo, acido urico e ammoniaca. And it can cause fatty liver. E può generare il fegato grasso. So you require, to remove this, it requires a cell dehyde dehydrogenase. Quindi quello che serve è la dehyde dehydrogenase dell'acido. One of the components required for this is magnesium and zinc. I componenti necessari per far questo sono il magnesio e lo zinc. No, il rame. Si corregge. Magnesio e rame sono necessari. Per questo, sono queste carenze, carenze quindi di magnesio e di rame, che generano anche i crampi, per esempio, oppure dolori anche articolari a livello delle dita. Have I answered your question, doctor? Dottoressa, spero di aver risposto alla sua domanda. Oh, well, more on earth, because the question was, the transformation, yes, that's really interesting. But the question was, we have a nova growth, we have a transformation of alcohol into acetyldale just if we have a nova growth of candida, or it is not linked with a nova growth of candida in the bowel, so we can have a conversion of alcohol into acetylade, even if we don't have a nova growth of candida in the bowel. Allora, la domanda, il chiarimento della dottoressa dice sì, e non totalmente ha risposto in quanto vuole sapere se c'è questa correlazione con l'intervento della candida, insomma della candidose, no, che porta appunto, che si genera a causa di quella conversione in acetildeide. E adesso la risposta del dottor Rada è, can you answer again, dr. Rada? Se facciamo un test delle urine, put it in the freezer, quindi prendiamo l'urina, la mettiamo nel congelatore, se per esempio la ritiriamo dal freezer e non è congelata, è molto probabile che contiene alcol, perché l'alcol non è possibile congelarlo. So, alcohol can be produced by saccharomyces species, potrebbe essere un alcol prodotto dai saccharomyceti, saccharomyceti, scusate. It can cause by candidiasis, potrebbe essere provocato da una candidosi, it can be produced by yogurt, potrebbe essere prodotto dallo yogurt, dalle arachidi. So, we cannot pinpoint to say until we do a fungus antigen test. Quindi non possiamo, prima di fare un test, anche antifungico, insomma, degli antigeni dei funghi, non possiamo, prima di fare questo tipo di test, decidere quale sia la causa di questa produzione di alcol. Have I answered your question, dr? Spero di aver risposto alla sua domanda. Yes, you did. Thank you. Thank you. Grazie, grazie. Ok. You want to know more about this? Lucine? Allora, la leucina, volete saperne di più? Questo è un muscolo. Questo è un muscolo. Lucine è un aminoacido. Quindi è un aminoacido. La leucina. Muscle needs lucine, isoleucine e valine. Quindi serve ai muscoli, se vogliamo. Oltre alla leucina, servono altre sostanze per l'attività muscolare. This is the insulin receptor. Questo è un recettore dell'insulina. Quindi viene, quando viene rilasciata all'insulina, it stimulates the insulin receptor, stimola il recettore dell'insulina, and several reactions take place, e si svolgono una serie di reazioni. This is a cell signaling. Questi sono segnali cellulari. Until it opens up, releases a chemical called glucose for transpotase. Quindi, fino a quando non si libera il glucosotranspotase. Then it opens up a window. Si apre quindi poi una finestra. For glucose to come in. E permette al glucosio di entrare. Se c'è troppo glucosio sia all'interno che all'esterno, si chiude il recettore. Questo si chiama insulino resistenza. Quindi che cos'è che provoca l'insulino resistenza? I metalli tossici. Sostanze chimiche. Low density, bad fat. L'LDL. Colesterolo LDL. Oxidative stress. E stress ossidativo. So this, this is probably coming from lo stress ossidativo in questo caso deriva molto probabilmente dai metalli tossici. And it's coming as loose in deficiency. e si manifesta come carenza di leucina. I think this is okay. Any questions? Spero sia chiaro. Ci sono domande? What's the time? You want to go to the next test? Posso fare una domanda? There is a question. L'eliminazione del frumento dalla dieta è definitiva oppure parziale fino a quando non si normalizza il quadro? The elimination of wheat, is it to be final once and for all or is it temporary until we recreate a balance in the clinical picture? Fantastic question. Okay. Domanda eccellente. 1% people who have gluten will become celiac disease. 1%. Solo l'1% dei pazienti che hanno una intoleranza al glutine diventano celiaci. 10% will be sensitive. il 10% saranno sensibili and the rest are not affected. La rimanente popolazione non subirà alcun impatto. But it can also mean that it could have been transmitted in the genes through our grandfather to father and to us. Però potrebbe essere ereditario quindi stato trasmesso geneticamente dagli nonni ai genitori fino a noi. I have not done data to show whether this person is really gluten intolerance or sensitivity or celiac. Io non ho condotto studi scientifici per rilevare se i pazienti i miei pazienti fossero o dove si collocassero ad uno di questi strati cioè intolleranza sensibilità e quant'altro per quanto riguarda il glutine in questo caso. So for this child the root cause is toxic metals quindi per questo bambino la causa alla radice è appunto quella dei metalli pesanti dei metalli tossici e se eliminiamo il frumento suggerisco di fare un altro test dopo quattro mesi don't look for all of these only look for these two and are alla ricerca solo di questi due metalli tossici e frumento il problema talvolta con i medici è che la nostra pratica è molto strettamente correlata alla farmacia e quindi talvolta questo ci rende difficile allontanarci dalla somministrazione dei farmaci e questo è un fenomeno un problema che si risconda in tutto il mondo perché ci è stato insegnato che corrisponde una pillola per una malattia polmonite antibiotici artrite antidolorifici perché noi siamo stati formati sulla base delle terapie farmacologiche quindi sia in Italia che in Malesia abbiamo lo stesso problema ci sono altre domande sì mi sentite sono la dottoressa che ha posto questo test ho eseguito io il test su quel bambino e volevo un po' parlarne di come io ho agito che praticamente è uguale a quello che ha detto il dottore nel senso che ho tolto il glutine e ho lavorato con i metalli tossici con dei rimedi umopatici il bambino ma soprattutto ha seguito una terapia da uno psicoterapeuta perché comunque aveva dei grandi cioè una componente emotiva molto forte e tanto che il bruxismo è nato da due tre mesi e quindi comunque con il discorso emotivo siamo riusciti a togliere anche il discorso del bruxismo cioè nel senso che pensavo anch'io dei parassiti come diceva la dottoressa però ho lavorato molto sulle emozioni e quindi lui e il bambino non bruxa più il discorso che l'alopecia che ha avuto tre anni fa è nata dopo un trauma sempre al discorso emotivo che si è instaurato con il terremoto da noi c'è stato un terremoto per cui il bambino dopo un mese dal terremoto ha cominciato a perdere i capelli quindi secondo me c'è stato comunque un discorso di tutto un disturbo emotivo emozionale e tutto e adesso si sta instaurando una malattia autoimmune per cui fai tradurre da Mike sì sì tolke tolke the doctor that administered the s-drive test to this child so she would like to explain to you the picture the clinical picture that she's identified for this child okay so she identified the gluten the wheat element and therefore she eliminated gluten from the diet of the child. She also identified the heavy metals and she dealt with homeopathic medicine. She dealt with that issue. And then she confirms what you said about the emotional child. And therefore, psychotherapy was conducted for the child because he is highly emotional. And also, once they conducted the therapies that I just briefly mentioned, the grinding of the teeth stopped after two or three months. And she also thought about the parasite aspect and that causing alopecia, in other words, the loss of hair, which had been occurring for three years. And apparently what happened was, I mean, a triggering emotional effect could have been the earthquake that led to a trauma because, in fact, the hair loss started a few months after this earthquake that we suffered in the region where the doctor and the boy live. And therefore, this could be the trigger, if you like, to the emotional responses. And now, as you were saying, she is, in fact, investigating and has acknowledged the possibility that this child will develop an autoimmune disease. Thank you, doctor. You have the power to give someone a life. Grazie, dottoressa. Lei ha nelle sue mani il potere di dare la vita a qualcuno. Okay. So, I have a few more cases sent to me. I would go through one by one. Allora, ci sono altri casi che mi sono stati inviati e adesso li esaminerò uno. May I ask another question in the while? Because, actually, two questions. The first question is, when we find gluten, it means that we have to propose a complete gluten-free diet or we, I mean, the diet the celiac usually conduct or we can suggest a reduced gluten diet, as far as in the intolerance usually are conducted as diet. And this is the first question. Dottoressa, può per favore, visto che lei parla anche l'italiano, tradurre le sue domande in italiano così facciamo più velocemente? Subito. La domanda è, quando noi troviamo il glutine nel report, dobbiamo fare la dieta completamente agglutinata, che è quella che facciamo fare ai celiaci, oppure se possiamo fare la dieta delle intolleranze, che è quella a glutine ridotto, quindi non completamente senza glutine. Yes, I translated. Okay. So, what you said is very true, but it is ideal versus reality. I teach doctors this. ideally, yes, you need to avoid gluten, but in reality it's very tough. Quello che lei dice è molto vero, molto giusto, però qui dobbiamo separare tra l'ideale e la realtà, ed è questo che io spesso insegno ai medici, discernere tra la situazione ideale e la situazione reale. Go ahead, doctor. The reason is gluten is present in toothpaste, cookies, not necessarily from wheat, barley and re itself. There are so many other places there is gluten. e perché dico questo? Perché il glutine si riscontra, c'è, esiste, anche nei dentifrici, nei biscotti, insomma non è che viene soltanto dal frumento. Immaginiamo quindi per esempio di evitare il glutine per quattro mesi. And then we took gluten. e poi a quel punto magari si può testare. The effect of gluten will last for three months to six months. Poi possiamo di nuovo far consumare il glutine. L'effetto del glutine si propaga fino a tre, quattro, sei mesi anche. Gluten, if you have gluten, it also affects the thyroid and they will end up with autoimmune. E il glutine ha un impatto sulla tiroide e può portare, infine, anche a una patologia autoimmune. Why gluten is so important? In this patient, where is the toxic metals coming from? Can you translate? Can you hear me? Non so come Mike non sta parlando. Lui dice che in questo paziente il glutine è molto importante perché è da dove vengono i metalli tossici. I lost the communication. Yeah, we lost Mike. Ok, so I don't know who else can hear me. That's my challenge. I can hear you, but I think... Ok, good doc. So what you do is that you tell that this wheat depends on the area it is planted. If the soil has got toxic metals, you would have been absorbed by the wheat. Yeah, yeah. Ovviamente dipende da dove viene piantato il grano. Perché se il grano viene piantato su un terreno inquinato dove ci sono metalli tossici, questo grano assorbe i metalli tossici. Quindi diventa la fonte dei metalli tossici. So that is one of the suspects. Quindi è uno dei sospettati. Ok. Anybody else want to ask me any question? Yes, I had another question about her food. Because often when I do the s drive, what I find is that my patients found that they are asked not to eat some food that they are not eating. And maybe they have never eaten. So it is quite strange. Because they say, but I don't eat it. And I have never eaten it. So why I couldn't eat it? So why does it happen? Quello che sto chiedendo è come mai ci sono molto spesso nei pazienti capita che i cibi che non devono mangiare, non sono quelli che mangiano spesso, ma sono dei cibi che non mangiano mai o che non hanno addirittura mai mangiato. Ok. The way we look at s drive is like diagnostic which is wrong. Ebbene, talvolta noi usiamo l'S drive come un test diagnostico. Questo è un errore. If you really want to find what's going on. Se vuoi veramente scoprire che cosa è in atto. And that the person is seriously ill. E se la persona per esempio il paziente è veramente gravemente ammalato. Don't depend on one S drive test. Assolutamente non bisogna fare affidamento su un unico test con l'S drive. After the first S drive test. Dopo il primo test con l'S drive. Dopo il primo. Clean up the system first. Bisogna prima fare una disintossicazione. Dobbiamo ripulire il sistema per cominciare. Ok. Then four months later repeat the S drive. Poi quattro mesi dopo si ripete il test con l'S drive. Then you might see the actual problem. E lì forse cominciamo poi ad individuare il problema reale. So if you do around three tests a year. We will actually be able to find the root cause. Se noi facciamo tre test all'anno. Abbiamo molta molta possibilità e probabilità di trovare la causa radicale. La causa di origine. Just like there's a problem with the thyroid. We will do multiple tests. Se per esempio rileviamo che c'è un problema a livello tiroideo. Noi faremo vari esami multipli diagnostici. After treatment. We will also repeat the test one or three months later. Appunto. Dopo il trattamento. Dopo la terapia. Ripetiremo gli esami diagnostici. So this is my experience going through the past six years with thousands of tests. So one test may not be conclusive enough. Just like sometimes one blood test is not conclusive enough. Have I answered this question? Spero di aver risposto alla sua domanda. Yeah. Thank you doc. Ok. Is there anybody else who wants to ask me any question? Ci sono altre domande? Si, buongiorno. Volevo chiedere a proposito di questo test. E' stato anche rilevata la presenza dei post-virus. Come si considera? Perché lui in questo momento non li ha presi in considerazione. Grazie. Ok. In the test that you were interpreting and illustrating. There was also post-virals that were identified. But you didn't stress them. You didn't point them out. Why is this? Ok. The way I look at many tests. I can read S drive tests in 20 seconds. Flat. I don't have to see the test. You just have to tell I can translate. Can you translate that first? Yes. Allora, faccio una premessa. Io sono in grado di leggere un report in 20 secondi. Addirittura non ho bisogno nemmeno di guardarlo. Basta guidate alcuni degli indicatori e io subito riesco ad interpretarlo. So there are two kinds of doctors. Ci sono due tipi di medici. The first kind. Il primo. La prima categoria. Would like to look at every detail. E quello che va col microscopio e cerca di guardare tutti i dettagli. And then try to correct everything. E poi cerca di intervenire e correggere tutti i parametri. The second kind of doctor. C'è una seconda categoria di medico o seconda categoria di approccio. Would look for one or two things that's actually causing the problem. Va alla ricerca di quelle due tre cose che sono prioritarie nel generare il problema. And if you remove those problems everything else gets corrected. E spesso se noi risolviamo quei tre, quattro elementi prioritari, abbiamo risolto già il problema. I am the second type of doctor. Io appartengo alla seconda categoria. The doctor who asked me the question is the first type. Il medico che mi ha fatto la domanda appartiene, credo, alla prima categoria. So I'll answer the question. Quindi adesso rispondo alla domanda. Just hold on. I'll give you a post-virus, right? Un attimo. Quindi stiamo parlando dei post-virali. Ok. What does post-virus mean? Allora, che cosa vuol dire post-virali? Either you have recovered from an illness. Quindi o ti sei ripreso da una malattia. Like common flu. Come il raffreddore anche. Se noi andiamo nel dettaglio del significato di questi indicatori che chiamiamo post-virali, vediamo quali sono. It can mean you have hepatitis. Può significare che, per esempio, hai avuto l'epatite. Abstent bar virus. Potrebbe essere anche qualche altro virus. Viral fatigue syndrome. Post-virus. Post-virus fatigue syndrome. Un'altra sindrome, per esempio. Post-viral. Post-viral. Fertic syndrome. Fertic. How do you spell fatigue? F-A-T-I-G-U-E. Oh, fatigue. La sindrome da affaticamento cronico. Ok. Quindi sindrome da affaticamento cronico. Or enterovirus. Sorry? Enterovirus. Oppure l'enterovirus. Which is existing with immunosuppressive disease. Che esiste, appunto, nelle patologie immunosuppressive. That is the meaning of post-virus in the test. Quindi questi sono tutti esempi o significati di che cosa indica quando tu hai rilevazioni nella categoria post-virali. The reason why I didn't mention that. Perché non l'ho citato e perché non sono entrato in dettaglio. Because I'm the second type of doctor who knows what exactly is causing the problem. So I don't have to focus on spending money doing all these tests which is costly. Perché? Perché appartengo a quella seconda categoria di medici e vado diritto a quello che io ritengo essere prioritario nell'individuazione del problema ed evito anche di far fare dei test che sono costosi, sarebbero costosi e da fare aggiuntivamente che potrebbero appunto essere risparmiati. Spero di aver risposto alla sua domanda. Sì, sì, la ringrazio. Anche se magari non siamo concordi nell'approccio, non ha importanza. Io però le chiedo... Thank you very much, even though we might not have or share the same approach, but let me ask you another question. Le chiedo, mi sono trovata in diverse occasioni di fronte a una riattivazione virale e questo provoca infiammazione e quindi provoca anche altri disturbi che vanno a contribuire tutto quello che lei ha detto. Quindi eliminando anche questi virus riattivati possiamo andare a correggere il nostro problema. Ok, the question now is the following. I've found myself often in situations where there's been a reactivation of the virus. Ok, and this has led to further symptoms and further issues that of course need to be managed and corrected. I think I see. So, what is the question now? Quindi la domanda? Perché non viene preso in considerazione dall'inizio? Questa era la mia domanda. Lui aveva detto... Sì, sì, ho capito, adesso l'ho capito. Ok. No, perché lei ha finito con l'affermazione sulla riattivazione, non l'avevo tradotto come domanda. Ok. So, considering what I just said, right, why not consider them from the outset? Ok. Because there can be a reactivation of the virus, which leads to symptoms. So, why not anticipate? Ok. Let's put it this way. This session is for translating as many cases as possible. This she can communicate with me after this discussion because we have to cover at least minimum 10 cases to 20 cases. She is right. We have to do PCR. We have to go after the virus if it is the problem for her. But here it is very different and I'm covering for every doctor here. So I need to move on. So, lei ha perfettamente ragione. Se vuole possiamo parlarne a tu per tu per considerare i suoi casi specifici. Ha ragione. Ci sarebbe il caso di fare un PCR e quant'altro. Il concetto è che io qui ho trattato finora due casi. Ce ne sono 10, 20 che possiamo illustrare e dimostrare. Il tempo è tiranno e quindi io sto cercando di andare avanti. Grazie. Grazie. Grazie comunque. Grazie. This is the next case. Can you see Alice? Allora, qui abbiamo il caso che segue che è di Alice. Diciannove anni, da dieci anni, epilessia, resistente ai farmaci. Poi c'è scritto DEPAKIN, FICOMPA, lieve ritardo cognitivo. That's the case we are going to discuss now. Nineteen years old. Quindi questo è il caso che stiamo per discutere. Nineteen years old, drug resistant epilepsy. Quindi un'epilessia resistente ai farmaci. Ragazza di diciannove anni. Has caused brain damage to her. E questo ha generato problemi cerebrali. I'll decode this test. Adesso quindi vado a decodificare questo report, questo test. Can you ask, are everyone of them following these discussions? Are they okay with that so far? Allora, prima di continuare desidero chiedervi se finora avete seguito agevolmente l'approccio che seguo nell'illustrare i casi. Dai commenti che mi stanno arrivando, sono veramente tutti contenti e soddisfatti. Quindi grazie di cuore. Giorgio answered your question. Giorgio is the host. Giorgio is the host. It's not me. I'm not Giorgio. You call me Giorgio a lot. It's okay. Don't worry. I'm Mike, right? You're Mike, right? I'm Mike, yes. Yes. Don't worry. No, I just wanted to point it out. Because Giorgio has just given an answer. And he says he's receiving feedback and comments from all the attendees. And they're all very happy and are providing positive feedback. So excellent job. Thank you very much. We have four cases, very interesting cases posted, and I think they're really seriously sick. So we want to do a little bit faster. Okay. Siccome ci sono quattro casi ancora che io vorrei trattare, perché sono casi di persone veramente affette da patologie un poco anche gravi, e per questo vorrei muovermi più rapidamente e più velocemente. Certo, la traduzione, questa è la nota del traduttore, la traduzione non aiuta perché raddoppia i tempi, ma non è una cosa di cui posso scusarmi, cercherò di essere più rapido anch'io. Magari digli di fare un focus sul diabete, Mike. And Dr. Radha, Giorgio, again, is asking you if you could focus on diabetes before the end of your presentation, if possible. Not a problem. Giorgio, va bene, non è un problema. Per favore, Giorgio, puoi ricordare al Dr. Radha quindici minuti prima della chiusura di questa sessione di trattare il diabete? Così lui gli dedica quegli ultimi quindici minuti, ok? Noi possiamo anche, se sono tutti d'accordo, chiudere alle tredici e trenta. Quindi non ci sono problemi, penso, per nessuno perché l'argomento e la lezione è veramente importante e non possiamo perdere. So, Giorgio is asking everyone if they are willing to attend until 1.30pm. That's Italian time. For me it's not a problem. So, you should close by 1.30pm, ok? Yes. Please remind me the time from now, because we are running too short. Ok. Che ore sono adesso? Adesso sono le undici, no? No, le dodici, scusate. Sono le dodici, abbiamo un'ora e mezza. Giorgio, you have an hour and a half left. Ok. It's now twelve o'clock, you should finish in one hour and a half from now. Ok. In Malaysia, I train nine to ten hours straight. In Malaysia, quando faccio i miei corsi, vado avanti per nove, dieci ore senza pause. Ok. This is the… Facilmente. This is the 19-year-old girl with epilepsy. Ok, questa è la diciannovenne affetta da epilessia. She got electromagnetic frequency. Quindi, frequenze elettromagnetiche. Under vitamins, she has got inositol, vitamin K1, vitamin C. Nella categoria vitamine, abbiamo l'inositol, vitamina B1 e vitamina C. Under minerals, she has got sulfur and magnesium. Per i minerali abbiamo lo zolfo e il magnesio. She got omega-3 and omega-6 deficiency. Carenze di omega-3 e omega-6. Under amino acid, she got alpha-lipoic acid and phytoestrogen deficiency. Per gli amino acid, she has got alpha-lipoic acid and phytoestrogen deficiency. Under amino acid, she has got taurine. e sempre per gli amino acid, abbiamo la taurina, come carenze. Carnosine. Carnesina. Ornettina. 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 Cisteina. E cisteina. And she has got chemicals. E poi, per quanto riguarda le sostanze chimiche, ci sono sostanze chimiche presenti. Huge. È veramente enorme. Guardate la dimensione di quella curva rossa. Allora, se è più della metà, come dire, il cerchio è più di 180 gradi, vuol dire che è troppo, troppo. È troppo in eccesso. Hoshu. It looks like horseshoe. Questo sembra quasi un ferro di cavallo come forma e stiamo parlando delle sostanze chimiche qui come categoria. This is the root cause. E questa è quindi la causa radicale, cioè la causa che è la radice del problema. She has, in the infections, she has bacteria. Per quanto riguarda le infezioni, vediamo presenza di batteri. Virus, post-virus. Abbiamo virus e post-virali. Under food, she has wheat, rye, and barley. Gluten. Per quanto riguarda invece gli alimenti, sono presenti appunto il frumento, la segala e l'orzo. So, under chemicals. Per quanto riguarda le sostanze chimiche. Go to page number 28. Vi chiedo di andare a pagina 28 della relazione. You tell them this is page number 28, I've got near her. Allora, siamo a pagina 28 del report. There's a red mark there for toxic metals. Click there. Link. Qui c'è un link per i metalli tossici e potete cliccare su quel link che si trova alla pagina 28. So, this would have, they will give you the list of chemicals, possible chemicals. e vi dà l'elenco di tutti i potenziali, tutte le potenziali sostanze chimiche. This is chemicals and hydrocarbon, sorry. Scusate, avevo abbreviato con sostanze chimiche, però qui abbiamo come categoria sostanze chimiche e idrocarburi. Quindi dobbiamo cercare di capire l'origine di queste sostanze chimiche e idrocarburi che sono stati rilevati. Sono il secondo tipo di doctor. Quindi vado subito qui alla causa radicale, cioè alla root cause. Come vi avevo detto all'inizio, il dottor Rada va direttamente a individuare la radice, la causa che è la radice del problema. Queste sostanze chimiche potrebbero anche derivare da organismi geneticamente modificati, cioè gli OGM. It took me four years to find out. E questo mi sono voluti quattro anni per scoprirlo. Ebbene, avevo detto a Ian Williams appunto che avrei decodificato appunto il concetto qui degli organismi geneticamente modificati. Le sostanze chimiche sono anche il fattore o i fattori che stanno bloccando gli ormoni femminili. Il magnesio è un neurotransmettitore per il cervello. Il magnesio è un neurotrasmettitore per il cervello. Quindi se noi agiamo e eliminiamo le sostanze chimiche, noi avremo delle conseguenze e degli impatti a tutti quei livelli di cui vi dicevo. Il magnesio come neurotrasmettitore, appunto sul frumento, cioè quindi il glutine, eccetera. Sui batteri, i virus. Quindi andando alla causa, alla radice sostanze chimiche, noi avremo un effetto e un impatto positivo su tutti gli altri fattori. Ci sono domande? Non ci sono domande. No question, sir? Se non ci sono domande... Ok, next case. Passiamo quindi al caso successivo. Il caso successivo... I can't... Hold on, hold on. I'll try to focus. There we are. Ok, got it. Rossella. Raise the phone a little bit. Ok, good. Great. That's excellent. So it's Rossella. Quindi abbiamo il caso di Rossella. Riuscite a leggere, come leggo anch'io, una signora di 63 anni, a 30 anni, manifesta otticaria risolta con omiopatia, a 57 anni circa, operata a... Un cancro al seno. Un cancro al seno, che non riesco a leggere, quindi operato. Ok, quindi sensibili agli ormoni, da 12 anni, affetta da asma, asma bronchiale, quindi Eutrox. Ok, so the history is Rossella, 63 years old, 30 years of articaria, resolved with omiopatia, 57 anni, l'intervento alle mammelle. Breast operated, sensibility to hormones, bronchial asthma, 12 years. E quindi, esatto, viene repilogato quanto avevo letto prima nella... Ok, so Rossella's test. Quindi adesso vediamo il report di questa signora Rossella. So anybody want to see how fast I translate? Adesso vi faccio vedere a che velocità sono in grado di fare una valutazione del test, un'interpretazione del test. You can put a timer, I can tell you. Se volete usare il cronometro, li potete... Ok, done. Ok, lo ha appena scorso velocemente sul cellulare, il report, e ha individuato, e questa è un'interpretazione del linguaggio non verbale, chiaramente ha individuato la causa che sta alla radice del problema. Il suo problema sono le allergie. Le carenze sono... Quindi sempre le frequenze elettromagnetiche. Per le vitamine, categorie vitamine, abbiamo la biotina come carente. vitamine D3, vitamina B1, B6, non ci sono carenze nella categoria dei minerali. non ci sono carenze per quanto riguarda gli acidi grassi essenziali, quindi gli omega. Under antioxidant, she has super... E per la categoria antiossidanti abbiamo... Dismutase. Abbiamo la dismutase superossidase. Dismutase, superoxide dismutase. Dismutase. Ok, la dismutase superossidase. Yes. Entocyanidines. Entocyanidines. Quindi ci sono anche... C'è una carenza degli anti... Under amino acid, she has pirosine. C'è... Under antioxidant, she has... Under antioxidant, she has... Under amino acid, pirosine. C'è anche una carenza a livello della tirosina. Serine. Serine. Anche a livello della serina. Aspartic acid. Anche per quanto riguarda l'acido aspartico. Triptofan. Sì, triptofani anche. And she has chemicals and hydrocarbons. E sono presenti sostanze chimiche e idrocarburi. More than half. Vedete, un po' più della metà per questa categoria. Sostanze chimiche idrocarburi. She has parasites. Poi, per quanto riguarda i parassiti, sono presenti. Balls and spores. Presenza anche di... Muffe e spore. And under food avoidance, she has no gluten. Alimenti da evitare, no glutine. Ok, so... Sorry, sorry, doctor. No gluten means that she has to avoid it or that she doesn't need to. Doesn't need to. No gluten. Quindi, no gluten vuol dire che non deve evitare il glutine. So, what's the root cause? Quindi, adesso andiamo a vedere qual è la fonte del problema alla radice. La fonte radicale è la categoria delle sostanze chimiche ed idrocarburi. Ok, so, let me go through simple things. Allora, partiamo dalla tirosina e dai triptofani. Il triptofano si converte in 5-HTP. Che a sua volta si converte in serotonina. Serotonina to melatonina. La serotonina si converte in melatonina. Ok. This is produced in the intestines. E questo processo si sviluppa a livello intestinale. La melatonina nel cervello è diversa dalla melatonina che si riscontra nell'intestino. Quindi c'è una... The melatonina in the... The melatonina in the intestine is produced 400 times more than the brain. Perché la melatonina a livello intestinale si produce 400 volte maggiore rispetto a quanto avviene per la melatonina nel cervello. That accesses endocrine. Sorry, sei da... Melatonina in the brain accesses endocrine. Quindi è a livello endocrino la melatonina che si produce nel cervello. This acts as a paracrine. Questo invece è a livello paracrine. P-A-R-C-R-I-N-E. Paracrine. A livello paracrine. Ok. So what's disturbing this? Quindi analizziamo adesso i disturbi. Chemicals. È il processo di questi disturbi a catena. Quindi le sostanze chimiche che generano quel... Other allergy can be because of molts and squaws. Quel percorso. E anche poi ci sono le muffe e le spore che possono determinare altre insensibilità e allergie. So one is chemicals and hydrocarbon. Quindi abbiamo le sostanze chimiche e gli idrocarburi come una delle fonti alla radice del problema. Number two parasites. Al secondo posto abbiamo i parassiti come come fonte e come terza fonte abbiamo le muffe e le spore. So remove this, remove this, remove this. Remove this. Se noi eliminiamo queste tre fonti. Una, due e tre. And add vitamin D3. E... Vitamin D3. Somministriamo vitamina D3. Ten thousand international units. Diecimila unità internazionali. Sublingual. Sublingual. A livello sublinguale. Daily. E questa somministrazione di vitamina D3 con quella dose tutti i giorni. And she will improve. Vedremo un miglioramento in questo quadro clinico. This is the other way to look at it. Quindi questa è una maniera differente di approcciare questa paziente. This is the intestines. Qui abbiamo l'intestino. You cut the intestine. Noi lo tagliamo a metà, l'intestino. It appears like this. Quindi ne facciamo una sezione, se vogliamo. You cut the intestine. Take this part. Quindi prendiamo questa parte, questa porzione dell'intestino. It appears like this. Si manifesterà così. One single layer. Ci sarà uno strato unico. C'è quindi un unico strato di cellule. And you'll have small microscopic holes. E in questo intestino così, in questa sezione dell'intestino, avremo dei fori microscopici. This can be because of parasites. E questo può essere generato dai parassiti. Chemicals. Dalle sostanze chimiche. As a result it goes into. E come risultato porta. This is called leaky gut. Questo si chiama intestino gocciolante. So the leaky gut page is written by me because I translate this. Allora, oggi sul report trovate una pagina dedicata al sindrome dell'intestino gocciolante. Grazie agli studi che ho condotto io su questi pazienti e quindi ho generato la pagina come conseguenza. These cells change every three to five days. Ora, queste cellule cambiano ogni 3-5 giorni. So this will cause nutritional deficiency. Pertanto questo porterà a carenze nutrizionali. Autoimmunity. Porta a patologie autoimmuni. Systemic inflammation. Porta ad infiammazioni sistemiche. So the whole idea is. Quindi il concetto di base è questo. Remove this. Remove this. This gets correct. Elimina questo ed elimina questo e questo verrà corretto. And add B3. E poi aggiungi la vitamina D3. Ok, so we're going to the next case. Quindi adesso passiamo al caso successivo. E Nico stands before I go next. Ci sono domande prima che io passi al caso successivo? A questo proposito mi scusi dottore. Quando troviamo sulla mappatura dell'intestino un alimento, no? Come da evitare? Ma non lo trovo nell'elenco degli alimenti in fondo. Come ci dobbiamo comportare? Ok. A question. How should we behave when we find food to be avoided, but then I don't find that food in the list of foods? And can you ask her to rephrase the question? Scusi, può rifare la domanda? Lei dice, si trova un alimento da evitare, io ho tradotto, ma non lo troviamo nell'elenco. Perché a volte nella nuova scheda relativa all'intestino c'è magari, trovo scritto glutine oppure orzo o qualche altro alimento come da evitare, come elemento che contrasta il benessere dell'intestino. ma questo alimento spesso non lo trovo poi nell'elenco dei dieci alimenti che compaiono poi segnalati da evitare. Ok. Well, often in the report, on this page on the gut, I have found, for instance, gluten and barley, for instance. But then I, those are the foods to be avoided, but then I don't find them in the list of the ten food elements that are listed in the same report. Actually, I didn't understand the question. The test does not appear the way we want it. We are expecting something to turn up, it doesn't turn up, that doesn't mean the test is wrong. That's our expectation. Se noi ci aspettiamo qualcosa, se abbiamo un'aspettativa, il test non ce la soddisfa, non vuol dire che il test sia sbagliato. Gluten is three main things, barley, wheat, rice. Il glutine deriva da tre fonti primariamente, la segale, l'orzo e il frumento. Then you find spelt, S-P-E-N-T. Poi c'è anche il farro. Miller. C'è anche il miglio. So, any one of them can be gluten. Quindi, uno qualunque di questi cinque alimenti possono contenere e portare glutine. So, we are expecting gluten to come up and it didn't come up. Quindi, per esempio, noi abbiamo l'aspettativa che emerga il glutine, ma il glutine non emerge. I don't have the power to tell what's in the body. No, mi spiace, forse non è stata compresa la domanda, non è un'aspettativa. Nel senso, se posso riprovare a spiegare, nella scheda dell'intestino, alla fine, oltre ai vari elementi... Scusi, facciamo una cosa per cominciare. Mi faccio la frase brevissima, così io traduco letteralmente quello che lei dice, vediamo se lo capisce. Quindi, abbiamo una scheda, scusi, e questa scheda ha diversi elenchi. Mi faccia capire questo, perché sennò io non riesco a tradurla. Esatto, nell'elenco, nella scheda intestino, può segnare glutine come elemento. Poi, nella scheda, invece, finale, dove c'è l'elenco degli alimenti da evitare, a volte il glutine non c'è. E poi abbiamo una lista, fatemi tradurlo un attimo, così almeno finisco l'operazione, non si complica. Allora, allora. Then, there's another list, another list which has the list of all the foods and gluten doesn't appear on that list. Okay, that's a technical question. Mike, that's a technical question. Let me finish the training, that can be answered another time. Ok, questa è una domanda tecnica. Le chiedo pazienza un attimo di farmi finire la presentazione e poi questa questione tecnica la possiamo affrontare separatamente. Perché abbiamo molto tempo per trasformare i conti, perché è così che abbiamo apprendito. Queste sono domande tecniche che la compagnia può arrivare o chi è in charge può arrivare a te. Allora, queste sono domande tecniche sulla presentazione del report e a questa domanda risponderemo più tardi quando magari può rispondere Ian, che voleva appunto prendere la parola e gliel'ho tolta perché volevo finire la traduzione. Rispondiamo io e Ian dopo. Ok, la prossima domanda, la prossima domanda è, puoi leggere questo? Allora, il caso successivo è questo. Riuscite a leggere. Vilma, 82 anni, ha sempre avuto problemi di diarea, per dieci anni, fibromialgia, terapia al cortisone, ha usato self-food e self-food con benefici. Affetto da sintomi di ansia e iperattività. Ok, so I basically understand that 82 years old, have diarrheal disease, 10 year fibromialgia, on cortisone therapy, self-food and same benefits, hyperactive and this thing. Ok, so let me go to this test, Vilma. Allora, ha riepilogato quello che ho tradotto io e quindi adesso passiamo a interpretare il caso. So you all want to see the timer? Allora, volete cronometrare quanto ci metto a trovare la causa che sta alla radice del problema? È una battuta, possiamo ridere anche perché ripete per far capire che insomma il processo una volta acquisito diventa abbastanza rapido. Ok, ho finito la traduzione. Perfetto. Ho fatto quindi la mia interpretazione, adesso avendo scorso molto velocemente e vado alla ricerca del problema originario. Allora, la fibromialgia è chiaramente il suo sintomo, il suo problema primario. E talvolta riscontro che quando questi pazienti sono sottoposti a certe terapie steroidee, per esempio, talvolta questo genera difficoltà nel leggere il test. E questo è uno di questi casi perché è stata sottoposta a terapia cortisonica, quindi può esserci una maggiore difficoltà a leggere il report, il test dell'S-Drive, proprio a causa di questa terapia steroidea. What I can see is she has got chemicals, but the chemicals can be because of steroids. Però vedo appunto per questo che c'è la presenza forte di sostanze chimiche e questa presenza di sostanze chimiche potrebbe derivare dalle terapie al cortisone. Quindi, e io ribadisco, questo è quello che io vedo. Manganese, vitamin C, quindi manganese, vitamina C, alpha-lipoic acid, flavonoid, ok. She has what we call oxidative stress. Quindi è affetta, c'è in corso uno stress ossidativo, questo lo si riscontra subito. So body protects by two ways. One is by enzymes. Il corpo si protegge in due modi, attraverso gli enzimi. The second one is antioxidants. E attraverso gli antiossidanti. So she has manganese deficiency. Lei ha una carenza di manganese. Manganese. Asi, ok. If you look at mitochondria... Se consideriamo, per esempio, i mitocondri... If you look at the mitochondria, in your mitochondria, you have this complex one, complex two, complex three, complex four, complex five. Nei mitocondri abbiamo i cinque complessi. Uno, due, tre, quattro e cinque. Il manganese è nella matrice del mitocondria. Yeah. Qui. E qui è coinvolto, appunto, anche... L'enzima, cioè gli enzimi molto importanti. Quindi la dismutase superossido, per esempio, può essere un modo per gestire questa cosa. L'acido alfa lipoico, può essere un altro modo. E, chiaramente, la vitamina C. This coming from here. If you correct the mitochondria, you'll overcome fibromyalgia. Quindi se noi controlliamo, facciamo il controllo al livello del mitocondrio, noi la fibromyalgia la possiamo gestire. Adesso vado più in specifico. Guardate qui. Questa è la pagina sul sistema immunitario. E sono evidenziati... Alfa lipoico acid, vitamin C. Che non riusciamo a leggere, però. Quindi c'è la vitamina C, l'acido alfa lipoico, quelli che ho scritto prima, insomma. Correct manganese. E poi il manganese, vedete? That correct the mitochondria. And so, you'll overcome... Quindi, intervenendo a questi livelli, noi possiamo, appunto, portare la correzione che agisce a livello dei mitocondri. Ok. So, now we have another case. Adesso passo velocemente a un altro caso. Qui abbiamo il caso di Fernando, 57 anni, etilista, diabete curato con ipoclice, mizzanti orali e insulina. Soffre di ipertensioni, usa beta-bloccanti, epatite C, parestesie diffuse, riflusso gastrico, alvo dieroico e vertigini. Ok, good. So, we have a diabetes case. Quindi abbiamo il caso di un diabete. So, 57 years old. Ripetisco, 57 anni. Alcoholic. Etilista. Diabetico. On oral medication and insulin. Appunto, che prende sia insulina che medicamenti per via orali e affetto anche da ipertensione. Ok, he got hypertension and using medicines. E quindi gli vengono somministrati tutti i farmaci per queste patologie. Fernando, right? Fernando, Fernando, Fernando. Si chiama Fernando. Ok, this is, how much time do I have? Quanto tempo abbiamo ancora, Giorgio? Un'ora, mi pare, no? Sì, sì, quasi un'ora. We have, we have an hour, almost an hour, just a little less than one hour. So, this is for the diabetic hypertension, which I'm going to train doctors next week. Allora, questo per quanto riguarda il diabete e le patologie ipertensive, quindi l'ipertensione, e faremo un corso, infatti, di formazione per i medici la prossima settimana. Ok, so I'm going to read the test first. Quindi adesso io guardo e scorro velocemente il report. Sì, 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 sì. Ok, done. Ok, ho finito. So, since Giorgio asked me to talk on diabetes, visto che Giorgio mi ha chiesto prima di parlare sul diabete, I'll show you here. Adesso ve lo illustro con questo caso. Ok. Giorgio, are you there? Giorgio, ci sei? Sei ancora in linea? This is because that you asked me, I'm taking my trouble a time to explain. Allora, poiché tu mi hai fatto quella domanda di focalizzarmi sul diabete, io a questo punto, esaminando questo caso, mi focalizzerò sul diabete appunto. Ok, this is zinc. Qui vediamo lo zinco. Ok. Sulla pagina relativa all'ottimizzazione del sistema immunitario. So this is the stomach. Quindi qui abbiamo, sto disegnando lo stomaco. So when we have food. Quindi quando consumiamo cibo. It converts to glucose. Viene convertito in glucosio. So food goes here, you get glucose, glucose, glucose. Il cibo transita e si crea, si genera glucosio. In the intestines, ok? A livello intestinale si genera il glucosio. It's absorbed into the blood vessel. Che viene assorbito dai vasi sanguiniti. And you have glucose. E quindi nel sangue abbiamo glucosio. One, two, three. Questi sono i passaggi. So now insulin is released. Quindi viene rilasciata insulina. For insulin to come out from the pancreatic cell. Quindi affinché l'insulina venga posta dalle cellule pancreatiche. It requires zinc. Richiede lo zinco. Guardate che qui zinco era stato rilevato come una delle carenze. So the doctor is giving medicine to reduce glucose. Actually he requires only zinc. Quindi il medico somministra farmaci per ridurre quindi ipoglicemizzanti e quindi per ridurre il contenuto di glucosio nel sangue quando in effetti gli servirebbe somministrare zinco. So when we give zinc we can reduce his medication. Quindi quando si integra con lo zinco si possono ridurre anche le dosi dei farmaci ipoglicemizzanti. Anybody do zinc test in their clinical setting? Allora, quando voi fate la vostra pratica medica prescrivete mai esami del sangue o esami diagnostici che rilevano il contenuto di zinco nell'organismo? Sì o no? Sì o no? L'ho visto poche volte. We have seen this very, very seldomly. Posso chiedere una cosa al dottor Radha? Giorgio would like to ask you a question, dottor Radha. Vai Giorgio. Giorgio, are you carrying a gun? You're not going to shoot me through there. Allora, Giorgio, c'è una pistola, mi vuoi sparare? Cosa vuoi fare? A proposito, è possibile anche correlare una virosi con il duabete o no? Questa è una domanda del dottor Vitolo. There's a doctor, Dr. Vitolo, who is asking a question. Is it possible to have a correlation between a viral disease and diabetes? Yes. Sì. Perché alcuni virus possono distruggere le celle pancreatiche. Ask them to Google virus and pancreas and diabetes. Basta googlare appunto virus, pancreas, diabete. Scrivete le tre parole su Google e trovate. Very common in type 1 diabetes. Soprattutto comune, frequente nel diabete di tipo 1. Not so common in type 2. Non tanto frequente o comune nel diabete tipo 1. Non si sa. Pronto? Posso intervenire? Dottor Bartolomeo Allegrini è un, insomma, molto esperto e ha fatto molti casi con S-Drive. Vai, Bartolo. Ok, so this is the doctor who asked the question. His name is Bartolomeo Allegrini and he has been working with the S-Drive for some time and he would like to make a contribution. Ken, please. Sì. Vada, dottore. Bartolo. Bartolomeo. No, una cosa che volevo dire, mentre ritorna Bartolomeo magari, volevo dire che, per esempio, molte persone affette da virus Covid hanno avuto grossi problemi a livello pancreatico in questo periodo. Me ne sto accorgendo perché segnalazioni da medici che lavorano in ospedale. Può essere, è vero questo? So, Giorgio, because we're waiting for Dr. Allegrini to come back, but Giorgio's saying that with the Covid-19 pandemic, he's been receiving signals from several physicians and doctors working in hospitals that there have been patients affected by Covid that have developed disorders in the pancreas. Would you confirm this? Can you confirm this? This is a very tough question. I'm a lot of expertise. I don't have the expertise in it. But virus per se can affect everything. But what can cause specific? I do not know. I don't want to comment on Covid because it's an ongoing research and I don't have the expertise. Allora, io non voglio fare un commento sul Covid, sulle implicazioni del Covid, perché non ho i dati, non ho studiato, non c'è stata ancora la ricerca su questo tema. Posso solo rispondere genericamente sul fatto che il virus, confermo quello che ho detto prima, ha un impatto a livello pancreatico. Chi è che stava intervenendo prima? Chi è che stava intervenendo prima? Non era il dottor Allegrini? Era qualcun altro e non sappiamo chi. Comunque, se vuole parlare. Un'altra domanda è se poi può rispondere dopo alle correlazioni del Covid. e sì, no, scusate, del test. Posso intervenire? Sì, prego. Sono il dottor Vitolo, il link me l'ha passato Bartolomeo, per cui ho questo link anonimo. Volevo chiedere, il momento in cui ci si trova di fronte ad una mononucleosi, che è un paziente diabetico, per esempio, quindi sappiamo che c'è questa correlazione di tipo virale, come facciamo a capire, una volta che abbiamo fatto le IgG e le troviamo alte, che la mononucleosi non sia ancora attiva nei confronti di questo diabete. Come possiamo intervenire? Ok, c'è una domanda da un doctorale che dice che nel caso della mononucleosi, ok, si conduiscono l'EGG, si vede che i compoundi presenti sono ancora alti, il virus ha magari risolto, ma ci sono ancora alti, ma ci sono ancora alti, e c'è una correlazione con la diabetes. Quindi, cosa vuoi dire a questo scenario, dove hai il virus, i effetti, e la diabetes? Ok, io ho capito di cosa Covid è fatto per la diabetes, questa è la prima volta che ho ascoltato. No, 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 no per rispondere alla sua domanda infatti io stavo per tornare al concetto dello stress ossidativo allora se mi permettete continuerei spiegando quello che sto per illustrare con quanto abbiamo detto relativamente al test eccetera e forse potrei con questo rispondere alle domande che sono state poste abbiamo visto quindi il glucosio nel sangue abbiamo visto che si rende necessario lo zinco per appunto contrastare il glucosio nel sangue ok then the glucose now has to be stored in the liver a questo punto il glucosio va chiaramente immagazzinato nel cioè va nel fegato e quindi il glucosio si trasforma in glicogeno e il glicogeno in eccesso si trasforma in grasso ok so glucose also needs to be stored in the muscle il glucosio viene immagazzinato andrebbe immagazzinato anche nei muscoli qui abbiamo un recettore il recettore dell'insulina e quindi adesso l'insulina attraverserà tutta una serie di reazioni una volta che entra il reggiatore e questo apre una finestra e questa finestra appunto permette l'ingresso del glucosio e quindi abbiamo adesso il glucosio dentro e fuori this cell signaling can be blocked by questi segnali cellulari possono essere bloccati chemicals toxic metals da sostanze chimiche da metalli tossici metalli pesanti chemicals toxic metals bad cholesterol da colesterolo ldl quello cattivo oxidative stress e anche dal stress ossidativo quindi questa fenomenologia potrei chiamarla come si presenta nel report del test dell'S drive can you see radiation vedete qui questa è la pagina sulle radiazioni there's toxic metals e questo significa sostanze chimiche toxiche can you see isolucine vedete qui no i can't see it l'isoleucina qui la vedete è presente l'isoleucina è presente qui nell'S drive perché viene bloccata qui a livello cellulare ok can you see omega 3 deficiency vedete qui le carenze di omega 3 is because of inflammation here e questo è dovuto all'infiammazione qui a questo livello oxidative stress of inflammation omega 3 is trying to reduce it quindi lo stesso ossidativo e quindi l'infiammazione che sono la stessa cosa più o meno e cercano di essere risolti dal omega 3 che diventa carente can you see B3 vedete qui la vitamina B3 B3 is coming from nicotinic acid la vitamina B3 deriva dall'acido bicotinico it goes into a molecule called NAD e passa attraverso una molecola che si chiama MAB NAD this is part of oxidative stress e questo fa parte dello stress ossidativo ok and diabetes also require D3 e il diabete richiede anche appunto la vitamina D3 is trying to fight oxidative stress perché si cerca di combattere lo stesso ossidativo vitamin E trying to fight oxidative stress la vitamina E sempre per combattere lo stress ossidativo and minerals we'll come to these minerals later dopo torneremo ai minerali and anthocyanidine deficiency carenza anche di anti anti cyanodine 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 quindi antocyanodine so it's trying to fight oxidative stress e il tentativo di combattere appunto lo stress ossidativo queste carenze sono due dal fatto che si continuano e così via sorry repeat polifenol polifenol i polifenoli anche also trying to address this come carenti perché sono tutte carenze legate al tentativo dell'organismo di quindi combattere questo stress ossidativo Bali e poi abbiamo l'orgio l'orgio perché contiene il glutine il glutine il glutine genera infiammazione e quindi stress ossidativo ok any questions here before I show more details allora io prima di andare in ulteriori dettagli desidero chiedervi se avete delle domande soprattutto magari chi ha questo test chi ha fatto questo test e vuole chiarimenti lo chieda any questions no ci sono domande non ci sono domande se non ci sono domande ok ok this is what exactly happens we see adesso vi illustro il processo cosa succede ci sono varie fasi converse to glucose allora il glucosio si trasforma in G glucosio 6-phosphate sysfosfato 6-phosphate 2-fosfato glucosio 6-phosphato 2-fosfato glucosio 6-phosphato 6-phosphato and then fructose 6-phosphate e poi frutto 6-phosphato E poi si trasforma in griseldehyde, trifosfato, poi 1,3-difosfato. Quindi questa è la trasformazione del glucosio. Nella prima fase, nella seconda fase, questo è il percorso del, can you say again what? Poliol pathway, sorry. Poliol, ok, poliol. Poliol pathway. Ok, quindi questo è il percorso poliol. Hexamines pathway. E questo è il percorso hexaminasi. Questo è ages. Yes, ages pathway. Ages means aging, right? Yeah, no, no, this is advanced glycolation and products. Ah, questo è il percorso A-G-E-S. So this causes oxidative stress. Ed è questo che provoca lo stress ossidativo. So it disturbs the proteins in the body, quindi altera le proteine dell'organismo, i lipidi e l'acido nucleico. E tutto questo lo si riscontra nell'S-Drive. S, alpha-lipoic acid deficiency. Come carenze di acido ALA. Vitamin E deficiency, vitamin C deficiency. Carenze di vitamina E, di vitamina C. Antioxidants deficiencies. E anche carenze di antiossidanti. Ok? So if you look at a leg. A diabetic leg. This person will have numbness. Quindi se prendiamo la gamba, il piede di un diabete, di un diabetico, ci sarà formicolio, dolore. Discoloration. Scolorimento. Scolorimento, quindi cambiamento di colore. Non healing ulcer. E? Non healing ulcer. E ulcerazioni che non si risanano. Quindi rispondiamo che tutti i pazienti che sono sottoposti a terapie ipoglicemizzanti, anche per via orale, appunto affetti da questo AGES, quindi stress ossidativo, soffrono tutti questi sintomi. So in spite of giving medications, yet we are giving insulin, we are trying to fight oxidative stress. Oxidative stress must be fought with this, not with drugs. E quindi noi combattiamo la insulinoresistenza con i farmaci ipoglicemizzanti, ma andrebbe combattuto invece questo stress ossidativo che provoca appunto la patologia anche attraverso la somministrazione di questi integratori. Quindi adesso vi faccio vedere di nuovo questo test. Fernando. Barley causing inflammation. L'orzo, per esempio, che genera infiammazione. There is no infection. Radiation, toxic metals causing. Radiazioni, metalli tossici che generano questo. Generano lo stress ossidativo, l'infiammazione. Ok. Anthocyanidins. Gli antiossidanti, questi sono antiossidanti, i polifenoli antiossidanti anch'essi, vitamin E, vitamina E, Omega 3, fighting inflammation, ages, zinc deficiency, carenza di zinco, Ebbene, se Giorgio vuole sapere come si fa la terapia del diabete, ed è così che io tratto i miei pazienti diabetici. Vedete, qui viene ripresentata la carenza di vitamina E nella categoria vitamine. Vitamin D3, anti-inflammation. La vitamina D3, anche questo aiuta contro le infiammazioni. Ok, so I want to show you the next one. Adesso vi mostro il successivo. E quindi qualunque medico può illustrare questo ciclo qui che ho appena illustrato, disegnato io. Zinc. Zinc. Lo zinco Serve per i capelli. Serve per i capelli. It can also mean that you are having insulin resistance. Carenze di zinco Indica anche insulino resistenza. It's also meant for intestine lining. E poi lo zinco è utile anche per il rivestimento intestinale. It is also required for immunity. È un fattore importantissimo per il sistema immunitario. It also means that you have cadmium toxicity. Questo significa che ci può essere tossicità da cadmio. Questo paziente ha due problemi. Erano presenti nel report sia il cadmio che il piombo. Questo è uno. Uno. Questo è il primo, la prima fonte, il numero uno. You remove this, we can reduce his insulin. Se noi eliminiamo il cadmio e il piombo in questo paziente, noi possiamo ridurre le dosi di insulina. Quindi possiamo ridurre i farmaci ipoglicemizzanti. Any questions? Ci sono domande? Dr. Rada, Giorgio earlier sent me a text message. I'm even reading text messages as I'm paying attention in my interpreting. And he says, could you also mention a few words on how you reverse heart blockages? Fantastic. Giorgio, ho appena tradotto al dottor Rada la domanda che mi hai portato, che mi hai mandato per Whatsapp. Quindi dicevo che ho avuto l'occasione di leggerlo, ma sappi che io non leggo Whatsapp quando sto traducendo. Comunque, se vuoi fare una domanda, in più non me la mandare su Whatsapp. Ok. This is for reversing diabetes, a booklet and also for heart. It's called RK5 system. Radha Krishna, five steps to reversing diabetes or reversing heart block or hypertension. Allora, questo è una formulazione che io faccio. questo è un piccolo pamphlet, uno puscolino che appunto parla di come io gestisco il diabete e il blocco cardiaco e quelli che sono appunto il sistema che utilizzo. Quindi come appunto seguo le due cose. There's a question from another doctor who wants to ask. Dottore faccia la sua domanda, scusi eh. Volevo sapere, l'approccio al diabete è sempre univoco o ci sono vari tipi di approccio alle problematiche del diabete a seconda della persona? Ok. Dr. Radha, there's a question on diabetes. Is the approach you illustrated on diabetes, is it the one and only single approach that you always follow or may there be different approaches or customised and tailor-made to the single patient that may vary from what you just illustrated? I've made five steps to overcome diabetes. Ebbene, io illustravo prima quel sistema che illustro in quello puscolino i cinque passi per gestire il diabete. Quindi io sempre cerco di eseguire questa logica dei cinque passi per superare una malattia. Primo, la teoria deve essere corretta, la teoria che stai prendendo come assunto. So if your theory is right, it should show either an S drive or blood test or urine test or any test it must show. Allora, se la teoria è corretta, chiaramente l'evidenza si vede sia nei test ematici dell'urina e nelle S drive. So if step one and step two is right, quindi se il primo e il secondo passo sono giusti, corretti, then the third step is your management is right. Il terzo passo, la terza fase è quello della gestione della malattia e deve essere corretta anche quella. If the management is right, the outcome is right. Se la gestione della malattia è corretta, l'esito, il risultato è corretto. If I can duplicate this with the next doctor, se poi sono in grado di duplicare questi passaggi anche con un altro collega, quindi con un altro medico, then the system is successful. A quel punto abbiamo dimostrato il successo del sistema. If I'm the only one who can do it, se io sono l'unico a poterlo fare, that is a bluff. Questo è un bluff. So for that reason, I developed five steps to overcome diabetes, blood pressure and blocks. Per questo io ho sviluppato questo sistema a cinque fasi per gestire il diabete, i blocchi cardiaci. So five steps. Step one. Cinque passi, cinque fasi. Fase numero uno. In your plate, put all your food. Metti tutto il cibo nel piatto. Take off 10% carbohydrate. In the gap. Nello spazio che rimane dopo che hai tolto 10% dei carboidrati. Put vegetables. Metti verdura. So that way you don't go hungry. In modo da, insomma, saziare la fame. So the body don't need to make so much of insulin. Quindi l'organismo a quel punto ha meno bisogno di produrre insulina. Questo ridurrà l'onere, come ho illustrato prima, quando il glucosio si trasforma in glicose fosfato. In the step one. Nel primo passaggio, la prima fase. You cut down processed food. Si riducono, si riduce l'apporto di cibo industriale, cibo processato. Processed food causes oxidative stress. Perché il cibo processato genera stress ossidativo. In the same, you also cut down fried food. Allo stesso modo, riduciamo l'apporto di cibo fritto. Reduce, riduce. Lo si riduce. The last one. You take colorful fruits and vegetables. E poi, la fase successiva, o la raccomandazione successiva, è quella di consumare verdure molto colorate, variegate nel colore. So just now I showed the antioxidants. It supplies molecules to overcome oxidative stress. Io illustravo prima come gli antiossidanti producono e forniscono quelle molecole che combattono lo stress ossidativo. Can you see step one? Vedete la fase numero uno. So what is step two? Qual è la fase numero due? You have to do exercise. Esercizio fisico. The moment we say exercise, people block the mind. Perché quando noi facciamo esercizio fisico, blocchiamo la mente. So what I've made is to find one exercise you can do anytime, anywhere. Quindi è necessario scogitare quel tipo di esercizio che si può fare ovunque, sempre. I'm going to do now in front of all of you. Adesso vi faccio vedere questo esercizio. And generally we'll ask the patient to do with us. E di solito possiamo chiedere al paziente di eseguire l'esercizio con le nostre istruzioni e seguendo il nostro esempio. Because most doctors are armchair doctors who never exercise. Molti medici sono medici da poltrona che non fanno esercizio fisico nemmeno loro. So how can you give an advice when you didn't do it? Quindi come puoi come medico dare consigli quando non esegui gli stessi? So I'm going to show. Quindi adesso ve lo illustro. Ok. And then. Ok. So. Squat first. And wake up. Ci pieghiamo sulle gambe. E inspiriamo quando ci rialziamo ed espiriamo quando ci abbassiamo. Quindi espiri nell'abbassare. E poi muori così le braccia. Uno. Due. Due. Tre. Tre. Quattro. Quattro. Seven. Eight. Nine. Ten. That's all. So. Your leg must be three feet wide. Allora. Porre i piedi alla distanza di poco meno di un metro e fare quell'esercizio in quella maniera. So step one. Quindi prima fase. Ridurre i carboidrati. Step two. Exercise. Consumare più verdure e tre. Anzi due e fare esercizio fisico. Ninety percent of the doctors don't exercise. Ebbene il novanta percento dei medici non fanno esercizio fisico. So when you exercise the patient must also stand beside you and must exercise with you. E quindi consiglio di fare questo esercizio insieme al paziente. So one set is only ten. Un set di esercizio è di dieci ripetizioni. So when you sport, when you breathe out. Quando ci si abbassa e si espira. It will cause hypoxia. Questo porta all'ipossia. Hypoxia will allow the blood vessels to open up in your heart. L'ipossia permette ai vasi sanguigni del cuore del sistema cardiovascolare di aprirsi. It will develop collaterals. E svilupperà canali collaterali. Okay. So once you are done daily only one time, hardly it will take 15 seconds. Allora, quotidianamente almeno un set di dieci di questi esercizi. So once you can do ten, you can do fifteen, one set. Quando riesci a farne dieci, un set, puoi farne anche quindici poi con l'esercizio. So once you can do one set, then you do two sets. Quindi una volta che sei riuscito a fare il primo set, poi ne fai due di set quotidianamente. Ok. Once you are done two sets, you can go down to three sets. Poi passerai a tre set quotidianamente. The gap between the first set and the second set should be five to ten minutes. So this exercise, you don't need to have special shoes, special clothes. You can do anywhere. So I'm going to show you. This is for the mountain screening doctors. Questo è stato filmato durante il corso che teniamo per i medici. Questo è io, eh? Quello sono io. Sei ok? Allora... So if you really want to be fit, you must do five sets. Se volete veramente restare in forma, dovete fare cinque set. Ok. Questo esercizio. Step two. Step two exercise. Step three. Il terzo passo. Intermittent fasting. E il digiuno intermittente. Intermittent. So you need to fast sixteen hours. Sixteen hours. Un digiuno che duri quindi sedici ore. So why you want to fast is to reduce the amount of glucose requirement for the body. Perché fare questo digiuno intermittente, almeno di sedici ore continuative, per ridurre appunto il glucosio nel sangue, nell'organizzazione? The reason of exercise is you burn fat and you also burn carbohydrate. Inoltre, l'esercizio permette di bruciare sia i grassi che i carboidrati. Ok. So if your last meal is eight o'clock in the night. Quindi se per esempio fai cena, l'ultimo pasto della sera è alle otto, alle ore venti. The next morning eight o'clock is already twelve hours. Alle otto del mattino successivo sono trascorsi dodici ore. So sixteen minus twelve hours is four hours left. Sedici meno dodici sono quattro ore, quindi. So when you wake up in the morning, you either have plain water. Quindi al mattino al risveglio beviamo acqua. Or water with lime. Oppure acqua e lime o limone. No sugar. Zero zuccheri. Or you have green tea. Oppure un tè verde. Or black coffee, no sugar. Oppure caffè. Caffè nero senza zucchero. Ok. Or you type bullet proof coffee. Oppure quello che si chiama il caffè bullet proof. Google, Google, Google bullet proof coffee. Bullet proof coffee è appunto un termine che oggi si usa molto. Potete cercarlo su Google. It has hot water in a glass. E allora è composto da acqua calda in un bicchiere. Add coffee, black coffee. Poi si aggiunge il caffè nero all'acqua calda. One tablespoon of butter. E un cucchiaio di burro. Two tablespoon of virgin coconut oil. E poi due cucchiai di olio di cocco extravergine. Ok. And then you mix it in a blender or you spoon. Poi lo si può miscelare con un miscelatore. Drink little, little first. E si beve a sorsi. Piccoli sorsi. The butter will prevent you from getting hungry. E il burro ti impedisce di provare la fame. The virgin coconut oil will break fat. E l'olio di cocco extravergine permette di scomporre i grassi. So you can have as much as possible until twelve o'clock. E quindi a quel punto puoi resistere senza mangiare fino alle dodici. At twelve o'clock you go back to step one. E alle ore dodici torni alla fase numero uno che è lo strato dove nel piatto elimini il 10% dei carboidrati. Ok. Step four. You eat zinc rich food. E poi passo numero quattro consumiamo alimenti ricchi in zinc. See the problem with doctors is they'll never tell what to eat. Il problema è che molto spesso i medici non prescrivono la dieta. Because we are not taught nutrition. Perché la nutrizione non ci viene insegnata all'università. So you remember I drew about zinc, how zinc works? Ti ho illustrato prima come funziona il percorso dello zinco. So you go to Google. Quindi andate su Google. You type out zinc rich food. E scrivete zinc rich food, quindi alimenti ricchi in contenuto di zinco. E chiaramente verdure, cioè cerchiamo di ridurre la carne. Print it out. Stampa l'elenco. Stick it on the kitchen wall. E attaccalo alla parete della cucina. Because we do shopping from the kitchen. Perché noi facciamo la spesa stando in cucina oggigiorno. Difficult to remember the list. È difficile ricordare l'elenco se non ce l'hai davanti agli occhi. Second food, chromium rich food. E poi il secondo tipo di alimenti. Alimenti ricchi in chromium, in chromium. Third food, alpha-licoic rich food. E il terzo, la terza categoria di alimenti è alpha-licoici. So step one, cut down carbohydrate, processed food. Quindi riduciamo i carboidrati, i cibi processati, facciamo l'esercizio fisico. So step two, exercise. Appunto l'esercizio fisico è il secondo delle fasi. Ok, I forgot Mike. Intermittent fasting is once a week. Ah, dimenticavo di dire che il digiuno intermittente si fa almeno una volta alla settimana. Ok. If you're good, you can go two times a week. Se ti piace e vuoi farlo, puoi farlo anche due volte, due giorni alla settimana. Il digiuno intermittente come è stato illustrato prima. Cioè durare per 16 ore senza consumare solidi. Ok, so the fourth step is zinc rich food, chromium rich food, alpha-lipo rich food. E quindi abbiamo detto poi, quindi il passo numero quattro è consumare alimenti ricchi di zinco, cromo e alpha-licoici. E così il paziente a questo punto è informato su cosa consumare, qual è la dieta da seguire nel corso dei mesi e poi degli anni. Ok, questo vale sia per il diabete che per l'ipertensione. Chiaramente gli alimenti saranno diversi per quanto riguarda il trattamento dell'ipertensione. Allora, may I ask a question about the intermittent fasting? Hold on, hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on. I want to freeze this, then you get it. Un attimo, vorrei completare questo, poi dopo. Correct, cell nutrition. Il passaggio numero 5 è sulla base degli integratori che ho sviluppato sulla scorta della mia esperienza. Che corregge le disfunzioni mitocondriali e lo stress ossidativo. Rimuove appunto i metalli tossici, le sostanze chimiche. E appunto poi permette di fare gli interventi correttivi sulla nutrizione e chiaramente si seguono le indicazioni che vengono rilevate dall'S drive e quindi nel report. It takes 4 hours to teach how to reverse diabetes, 4 hours to reverse hypertension and block. But today's session is because Giorgio asked me about heart blocks. At least do the exercise, it will burn collaterals, it will save you from a heart attack. Stop smoking! Allora, riepilogando, quindi questi sono gli approcci per invertire il processo del diabete, dell'ipertensione, fare quell'esercizio fisico per esempio aiuti di aprire appunto i canali cardiovascolari appunto, e smettere di fumare, questo è logico, e fare seguire queste istruzioni possono veramente aiutare sia per il diabete che per l'ipertensione. Quindi aspetti cardiovascolari, blocchi cardiaci eccetera. Mike, because of regulatory affairs in Italy, I do not want to go into supplements. Because this is what I bill for other countries and we cannot involve these in the discussion here. Okay. Because if you don't remove these, no matter what you try, it's not going to change your diabetes or heart block. Okay. Mercury has got very specific attraction for your coronary blood vessels. Okay. Let me translate, please. Okay. Poiché io ci sono questioni regolamentari in ciascun paese, quindi l'Italia avrà le sue regolamentazioni, io non voglio entrare nel tema degli integratori, assolutamente non mi compete e non è l'argomento di questa sessione. ho voluto illustrare questi esempi per dire come è possibile intervenire per il diabete, per il sistema ipertensivo eccetera eccetera. Bisogna agire a quel livello che illustravo prima quando c'era la lavagna, cioè agire per ridurre l'infiammazione, quindi il processo, lo stress ossidativo e quindi e ricordare che appunto i metalli pesanti, questi agenti tossici eccetera, come per esempio il mercurio, sono fattori importanti che procurano queste difficoltà e queste patologie. Possiamo commentare un altro test per piacere? Five minutes. Do we have time for you commenting another test, another report? Yes, no problem, I go in. Okay, okay, nessun problema. So, another test. What you're seeing all the while into microscopy, into very cell details, is that's how I can reverse a lot of diseases, that's how the S-Drive has helped me tremendously. Il S-Drive mi ha aiutato tantissimo perché mi ha dato gli indizi per andare ad esplorare tutti quei processi che qui ho cercato di illustrare a modi esempio a livello microcellulare, a livello microbiologico, perché tutte queste illustrazioni che ho fatto sono i percorsi che possiamo compiere grazie agli indizi che riceviamo nel report dell'S-Drive. Can you see, Mike, can you see it? Yes, I can see it. Move it to the center, please. That's it. It's not coming. No, 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 no. Okay, okay. Hang on, hang on. Okay, okay. I can see it here. I can see it here. Quindi adesso, adesso abbiamo un altro caso. Questo report allegato. La signora si chiama Ave Fiorano. Io lo leggo malissimo. Giorgio is describing this because I can't see it and read it very quickly. Okay, so this is the last test. So next time I see you in Italy. Okay, let me translate the test. Adesso interpreto questo report, quindi il test dell'S-Drive. Per cortesia, spegnete i microfoni dove ci sono bambini che parlano. Purtroppo il test è in italiano. Quindi ho guardato le immagini e volevo leggere la casistica, l'anamnesi, ma purtroppo è scritta in italiano. Non è bene. La testa. I'll come straight here because we are short of time. Perché il tempo occorre. Andiamo alla radice, alla causa principale. Questa signora ha bisogno di tanto aiuto, credo che sia una madre. Questa è la causa, la radiazione. La radiazione è la causa, la fonte primaria. Quindi ha una tossicità da piombo e questa è la causa numero uno. Can you see silicone? Vedete il silicio? Silicone. Silicio. Silicone is aluminum toxicity. Questo spiega una tossicità da aluminio. Can you see magnesium? Vedete il magnesio? Magnesium is arsenic toxicity. Allora, la carenza di magnesio spiega appunto la tossicità dovuta all'arsenico. Quindi queste sostanze tossiche, metalli tossici, sono arrivati al cervello. E stanno generando, hanno generato uno stress ossidativo enorme a livello cerebrale. E questo porta appunto a questi attacchi quasi epilettici. Se noi potessimo e possiamo ridurre questo tipo di contaminazioni e quindi eliminare l'intossicazione, noi vedremo una diminuzione sostanziale di questi attacchi epilettici. Ok. The reason she may be having magnesium less is because of the fungus. Forse i funghi sono la causa della carenza di magnesio. Previously I showed fungus depletes magnesium. Here's a sample. Prima vi ho illustrato come i funghi possono appunto portare alla diminuzione del magnesio e questo ne è un esempio. It also helps to reduce the feeds in the woman. E chiaramente questo porterebbe a una riduzione degli attacchi di cui stiamo parlando. In a pregnancy with high blood pressure Durante la gravidanza con elevata pressione sanguigna they will transfuse in the hospital magnesium sulfate. Infatti in questi casi di solito all'ospitale si somministra appunto il sulfato di magnesio. One is to reduce the blood pressure. Questo per ridurre la pressione del sangue. Second is not to have feeds. E due per ridurre appunto gli attacchi. And she's got magnesium deficiency. E lei appunto ha una carenza di magnesio. She has barley here, gluten, not important. Quindi qui abbiamo il glutine nell'orzo ma non è importante, è meno importante di quegli altri fattori che ho appena illustrato. Ok, this is what I wanted to tell Mike very clearly. Any deficiency you see is not equal to a disease. E una cosa che desidero veramente sottolineare una volta per tutte è che quando noi leggiamo nel report una carenza assolutamente dobbiamo evitare di compiere l'equivalenza che è un'equivalenza complessa poi perché non esiste tra la carenza e la patologia. Cioè mai fare un'inferenza o un collegamento diretto tra carenza e malattia. Normal people also will have deficiency. So that doesn't mean that every deficiency you see is some sickness. Tutte le persone, chiunque, anche persone normali che conducono una vita normale senza avere alcuna patologia in atto, hanno carenze. Tutti abbiamo carenze di qualche genere. Ok, I've finished the translation. You want to see another test? Allora, quindi io così avrei completato. Se volete vedere un altro caso, fatemelo sapere. Allora, questo è un test che è stato fatto da Giorgio. The patient's name is Alexandra Di Sibio. Qui abbiamo Alessandra Di Sibio, mi pare, se ho capito bene. Yeah, I'm reading the tests. Adesso leggo velocemente il report. Poron, Aileen, Ferro. Oh, this is in Italian. Anche questo è in Italian. It's okay, it's okay. I can translate. I can translate. Fito, estrenico, Q10. And this person has definitely got heart blocked. La persona sicuramente è affetta da blocco cardiaco. Blocchi cardiaci. Allora, io non ho visto il paziente, chiaramente. I don't know the medical history. Non conosco l'anamnesi, non conosco la storia del paziente. By writing this medically wrong, we must see the person and interpret that person with them. E chiaramente, quindi, è sbagliato fare un'interpretazione dell'S-Drive senza aver visto il paziente. We are talking about medical ethics. Okay, but let me translate for you. What is the problem? E' chiaro che ci tengo a precisare quello che ho appena detto, perché questo fa parte della deontologia medica. Tuttavia, avendo detto questo e fatta questa importantissima premessa, se mi permettete, provo ad interpretare il report, proprio l'S-Drive. B10 deficiency. Qui abbiamo una carenza di betaina. Fatty liver. Questo significa, è correlato con il fegato grasso. B3. Carenza di vitamina D3. It can be bone. It can be blood pressure. Potrebbe essere dovuto all'ipertensione. So, for the doctors here, Quindi, per i medici qui presenti, per coloro di voi che sono medici, non nutrizionisti e non... When the D3 is low, Quando c'è un basso contenuto di vitamina D3, Yeah. Renin angiotensin will go up. Repeat that, please. When the vitamin D3 is low, Renin angiotensin will go up. La renin angiotensina aumenta. You've got a second cable there. Down, down. Under this thing. Can use a second cable. I've finished in another five minutes. Okay. Again, sorry for a distraction. Scusate per questa distruttura. If the D3 is low, Quindi, quando c'è un abbassamento del contenuto di vitamina D3, Renin angiotensin will go up. La reno angiotensina aumenta. In the kidney. Questo nel rene. So, this person's blood pressure will go up. Quindi, aumenta la pressione sanguigna di questa persona. L'ipertensione cresce. Okay. We need three to four indicators pointing towards the heart. Then you say it is a heart problem. Allora, quando noi troviamo almeno tre indicatori nel report che ci conducono al cuore, noi possiamo a quel punto affermare e decidere che l'indagine si muove in quell'ambito. a livello podiovascolare. E questo è un indicatore. Quindi, abbiamo questo indicatore che ci porta in quella direzione. Infatti, questa persona ha anche un problema a tiroideo. As a matter of fact, this person has a problem with the thyroid as well. Yes. Coming up. Sì, sta per arrivare. So, iodine. Quindi, abbiamo lo iodio. Tiroide. Iodio, qui, quindi il collegamento con la tiroide. Okay. Ferrous is iron. Il ferro. Boron is bone again. Il boron. Potassium. It can be hypertension or it can be thyroid. Il potassio conduce sia ad ipotesi tiroide che a ipotesi appunto di ipertensione. So, for thyroid we have potassium. Quindi, per la tiroide abbiamo il potassio. Abbiamo lo iodio. Due indicatori. Abbiamo due indicatori. Ce ne servono tre. Ce ne servono tre o quattro di indicatori per avere la conferma che il problema forte è a livello tiroideo in questo caso. Okay. Coming back. Coming back. Coming back. Coming back. Coming back. Coming back. Omega 3. Omega 3. Omega 3 is required for heart. L'omega 3 è chiaramente necessario per l'acido grasso. Omega 3 è necessario per il cuore. It also requires for reducing cholesterol. È anche importante per ridurre il colesterolo. CoQ10. Coenzima Q10. Okay. So, let me demonstrate what CoQ10 is. Allora, adesso vi dimostro che cos'è il Coenzima Q10. This is called the framework. Ma abbiamo solo... Non abbiamo tempo. Non abbiamo più tempo. We don't have much time left. Yeah, one minute. Doctor, se io scosso una gamba... It means my whole body can be supported by one leg. I thank you very much for this. But, you know, we don't have more time. Five minutes... Okay, so we stop. Five minutes, we can... We close, please. Okay, finish. So, this is the main framework for the heart. Questo, quindi, è il quadro di riferimento principale per il cuore. Okay. So, next... Quindi abbiamo trovato tre indicatori per il cuore. Fungus. E poi funghi. Inflammation. Infiammazione. I can't read this, but I think there is no gluten. Non riesco a leggerlo, ma credo che qui il glutine non viene evidenziato. Okay, so I've finished the translation. And I want to... Ho finito la mia presentazione. Thank all the doctors who had the patience of all this. Ringrazio tutti i medici, tutte le persone che ci hanno seguito, per la pazienza che hanno dimostrato. Deborah, c'era una domanda che volevi fare? Yes, I want to ask about the intermittent fasting, because there are different guidelines about that. And there are some doctors that suggest to do the fasting each day of the week. Others say to do not every day. And also, I wanted to know if there's a preference about which meal has to be skipped. I mean, it is preferable to skip breakfast instead of skipping dinner or it's, I mean, it's up to individual choice. So, that's the question. In your experience, of course. La domanda è, sul digiuno intermittente, alcuni medici suggeriscono che si può fare tutti i giorni, altri dicono di farlo soltanto alcuni giorni della settimana, poi quale pasto saltare, se la prima colazione è come nel suo esempio, oppure se la cena? Ecco, questa è la domanda. Allora, quello che lei dice, qualsiasi cosa lei dice è giusto, dipende dal protocollo che desidera seguire. La domanda da porsi è perché fare il digiuno intermittente. Il motivo per cui io lo prescrivevo prima nel mio esempio era quello di ridurre, era per ridurre il carico del carboidrato. Secondo, non tutti sono pronti per fare il digiuno intermittente. Quindi, io lo specifico precisamente per il diabete e per l'ipertensione. Quindi, io lo ho concepito con il digiuno nella notte. Perché quando si rivolgono a cominciare la città, si rivolgono al step 1 della mia dieta, producendo il carboidrato, la città, la città, la città, la città, la città e le verdure colorate. Perché quando completi la fase di digiuno, torni a consumare i cibi normali e quindi torni a consumare quello che sono poi i carboidrati, le proteine e le verdure colorate. Molti di terapie sono lì, in l'intermittent fasting, che ci chiedono di andare in una dieta di keto. Molti che suggeriscono il digiuno in termini attenti suggeriscono anche una keto dieta. E quello è difficile da sostenere. E quindi ritorno al concetto dell'ideale rispetto al reale. Quindi seguire quello che secondo voi è più idoneo, più normale poter seguire. E così andrete bene, andrete alla grande. Ok, doctor, before I go off, if you stand on the stage in India with a hundred diabetic endocrinologists, they will kill you. Ebbene, prima di chiudere, volevo dire, se vai sul palcoscenico davanti a mille medici endocrinologi che si occupano di diabete, ti uccidono. First question they ask you, do you have data? Perché la prima domanda che ti fanno è, hai dei dati a surrogare, a supportare quello che dici? You will die on the stage. Ti faranno morire su quel palco. Per questo io ho cercato di sintetizzare il tutto in modo che sia più facile da seguire un po' da tutti. E noi stiamo documentando i cambiamenti, perché stiamo documentando con la raccolta di dati queste impostazioni, questa forma di terapia e la pubblicheremo con l'approvazione delle Nazioni Unite. Quindi se siete soddisfatti del vostro approccio, il protocollo, la metodologia che seguite voi ed è soddisfacente per i vostri pazienti, continuate con quello che fate. La differenza tra voi e me, è che io devo comunicare con i medici. Questa è la sfida. Ho finito. Grazie per la tua dedizione, Dottor Radha. Grazie per il tuo tempo, per l'impegno. Dottor Radha, grazie per la tua dedizione, grazie per il tuo tempo, per la passione e la competenza. E questo è quello che è. Ci auguriamo di poterti invitare ancora qui con noi per un'altra lezione e perché ci sono tantissimi altri report da commentare e non siamo riusciti a farlo. Quindi i medici stanno aspettando di commentare i loro report. And also, we'd like to have you back, meet you again, not only because of what I just said, but also because we still have so many reports to interpret and to translate, as you say, and we would like to have you back as soon as possible. I'm most excited to see you all again. Sarò molto felice, sono entusiasta di rincontrarvi ancora. Thank you very much. Now, I thank you the President, Jan Laios. I want that Jan can explain the news. Può introdurre le news che ci saranno prossimamente e poi andiamo a mangiare e ci rivediamo, direi, alle 14.20 con il Professor Spaggiari e il Dottor Alegrini. Okay, so let me call Mr. Ian Lyons, who is going to conclude with some important information and news. And then we shall break for lunch and reconvene at 2.20, that's for the Italians, with Professor Spaggiari and Mr. Alegrini. Thank you. And Grazie Michael, you have not stopped for four and a half hours. Mike, thank you. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you very much. Just very quickly, you can see why Dr. Rada is so important to advising our medical board. He's one of our senior trainers. He's superb and he doesn't know it. He is a genius. Io desidero ringraziare il Dottor Rada. Adesso avete capito perché è così importante per noi. È uno dei nostri senior trainer ed è un nostro consulente medico e adesso sapete perché. Lui non lo sa, ma è per questo che io lo considero un nostro genio. There were eight questions. We don't have time now because you're all very hungry. so I'm going to cut this down to about three minutes so you can eat. Number one. Allora, sono emerse otto domande. Stiamo andando veloci. Dovete andare a pranzo. Siete sicuramente affamati. Quindi io cercherò di ridurre il mio intervento al massimo tre minuti. Parto dal primo punto. Dr. Rada doesn't drink red wine. Big problem. Un grande problema il dottor Rada che non beve vino rosso. Tito. So he will have a problem when he comes to Italy. Quindi avrà un problema quando verrà a trovarci in Italia. Bring back, bring back. Number two. This will be launched early next month. Allora, numero due. Quel prodotto lì, quel integratore verrà lanciato il mese prossimo. And it is a new report because COVID has caused hair, skin and nail problems. Ci sarà un nuovo report, quindi quello che verrà lanciato il mese prossimo. Perché? Perché il COVID ha, pare, generato problematiche legate alla perdita dei capelli, a problemi con le unghie e quant'altro. Quindi ci sarà un nuovo report, una nuova pagina, se vogliamo, del report che verrà aggiunta il mese prossimo. Quindi una pagina specifica sui capelli, l'ottimizzazione dei capelli, della pelle, quindi sulla cute e una pagina specifica che verrà aggiunta sulle unghie. Alla fine del mese prossimo verrà lanciato ancora un'altra pagina che è questa qui. Quindi il report su bambino. Wow, wow, this is new for me. Bambine. And this is, to make it easy to be read, this is an overall well-being indicator. E qui, per agevolare la lettura, ci sarà un riepilogo degli integratori con una nuova pagina dedicata proprio a questo. This is optimized growth page. Poi ci sarà una pagina dedicata all'ottimizzazione della crescita. Optimized brain development. Un'altra per l'ottimizzazione per lo sviluppo cerebrale. Immunity, which is different for children as opposed to adults. E sempre in questo report dedicato ai bambini una pagina sul sistema immunitario che è diverso nel bambino rispetto all'adulto. gut support again a little different. E poi il supporto intestinale ancora una volta una presentazione diversa rispetto a quello che si fa nel report per l'adulto. Circulatory report. E poi ci sarà una pagina sul sistema circolatorio. restrizione alimentare e tutta una serie di altri fattori. E per chi ama i cani ci abbiamo impiegato quattro anni a sviluppare questo. e questo auspichiamo di poterlo pubblicare a giugno. e questo è quanto per quello che abbiamo in programma e ben presto ci sarà anche una nuova app che sarà disponibile per presentare il report e potrà avere il vostro logo. E questo permette di comunicare con tutti i vostri clienti con il stesso report ma riduzione in size con le vostre noti e potranno anche la vostra videoconferenza con voi. E questa app che stiamo sviluppando per voi vi permetterà di comunicare con i vostri clienti di fare una sintesi del report di illustrare vari punti e poi l'app permette anche di fissare gli appuntamenti comunicare in generale quindi organizzare anche conferenze e convegni con i vostri target. Grazie a tutti